Sono le 19.55, Stadio Olimpico del Ghiaccio, buonasera a tutti. Questa è la Hockey Night per quanto riguarda Radio Cortina, per quanto riguarda HockeyCortina.it, la buonasera da Luca Zardini Accedelli e da Mario Pizzamore, buonasera Luca, buonasera a tutti quanti. Ben ritrovati con l'Hockey su ghiaccio che conta, quello della Hockey League. Seguiamo la Hockey League, sia sulle frequenze dell'emittente delle Dolomiti, e tutti i nostri radioscordatori sono ovviamente i benvenuti, sia sullo streaming per seguire i video, le immagini dal vivo della Cortina in questa gara 2 di quarti di finale. Ricordiamo, gara 1 non è andata bene agli ampezzani, per il risultato sconfitta 2-1. Sabato all'Odegaard si torna a giocare in questa serie alla meglio delle cinque partite. Mario, con quale ambizioni, con quale tranquillità o con quale ancora pressione questa sera si gioca sul ghiaccio di casa? Guarda, Carlo Luca, abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di seguire il Cortina in gara 1 da vicino. L'Asiago ha dimostrato di essere squadra forte, non a caso ha dominato le semifinali e le finali play-off, hanno vinto lo Scudetto, sappiamo che è l'Asiago, e il primo tempo, soprattutto di gara 1, effettivamente il Cortina ha sofferto. È stata un po' una copia di gara 1 di semifinale. Sì, forse non così male, però sì, l'idea è un po' quella. Dal secondo tempo in poi il Cortina ha dimostrato che con il giusto atteggiamento, la giusta grinta, la voglia di lottare su ogni disco, non dico si possa fare partita pari, ma puoi dare fastidio a questo Asiago, e soprattutto oggi siamo all'Olimpico, casa nostra, dove in tutta la stagione abbiamo dimostrato di poter battere chiunque. E poi proprio l'Asiago, in stagione regolare, ha sempre perso qui. Comunque il Cortina ha dimostrato di giocare delle gran partite contro gli Stellati, che hanno un po' sofferto il ghiaccio dell'Olimpico, non hanno sofferto ovviamente il fattore campo a livello di pubblico, perché sappiamo benissimo, e con questo vogliamo iniziare salutando tutti quelli che generalmente vengono allo stadio, ma devono soffrire da casa, ascoltando la nostra cronaca, vedendo le immagini di occhi.cortina.it, i tifosi più accaniti, quelli da tribuna, quelli da curva, ovviamente tutti quelli sia da un fronte che dall'altro, i tifosi dell'Asiago e i tifosi del Cortina. Le squadre sono sul ghiaccio, anzi no, solo l'Asiago, Migros 1935, si dispone sulla linea blu, il Cortina ancora deve uscire dal suo spogliatoio, ma andrei di andare subito con la lettura delle formazioni, partendo proprio dagli ospiti. Partiamo allora proprio dall'Asiago, che schiera tra i pali Gianluca, Vallini. Prima linea con Ginnetti, Casetti, Marchetti, Mantenuto e Frey. Seconda linea con Gellert, Marchetti, Stefano, Magna Bosco, Rosa e McParland. Terza linea con Forte, Miglioranzi, Vankus, Stevan e Tessari. Quarto blocco con Parini, Rigoni, Lievore, Dalsasso e Zampieri. Secondo portiere, Stevan. Perfetto, mentre stanno entrando anche gli ampezzani, ricordiamo che sulla panca dell'Asiago Migros c'è Mattila, la sua seconda stagione sull'altipiano di Asiago, ed ora andiamo alla lettura della formazione della squadra che gioca in maglia blu sui vostri schermi, dalla destra verso sinistra, il Cortina. E per la formazione del Cortina partiamo dalla buonissima notizia di questa sera, il roster finalmente è al completo e c'è il rientro anche del nostro numero 55, fortissimo Luca Zanatta. Ecco, un paio entesi, scusa Mario, come sta Luca Zanatta? Bene, dalle spogliatoi dicono che Luca Zanatta sta bene, altrimenti non sarebbe rischiato, perché chiaramente l'infortunio alla testa non va sottovalutato. Detto ciò, il Cortina schiera Marco De Filippo tra i pali, Phil Pietroniro, Max Cordiano, Chad Pietroniro, Cazzola e Giftopulos in prima linea, Enrico Larker con Vainonen, secondo blocco, in attacco De Zanna, Adami e Marco Sanna. Terza linea con i due fratelli Zanatta, Mike e Luca, Alessandro, Zardini e Faloppa in attacco, quindi tutti e tre i fratelli Zanatta in terza linea e quarto blocco con Vallazza, Emanuele Larker, Luca Barnabò, Andrea Moser e Tommaso Alverà. Back up, goli di riserva, Martino Valledarin. Sulla panca ampezzana Ivo Maschka, assistito da Bruno Costantini, ex leggenda del hockey ampezzano negli anni 80 e 90, fido amico del coach pusterese, trovato questa bella coniugazione di idee e rapporti sulla panca ampezzana, che ha prodotto dei risultati importanti, un inizio tentennante quel di ampezzani in stagione di Absoc E.D., che purtroppo poi ha visto anche verificarsi la possibilità di arrivare in finale, scudetto proprio con l'Asiago a metà gennaio, ma proprio da quella settimana è scattato qualcosa, il Cortina ha iniziato a macinare gioco, punti, vittorie, fino ad arrivare quinta in classifica, ricordo, perché per la regular season si sta giocando il quarto di finale tra quarta, quindi tra l'Asiago, che è la squadra che è arrivata nelle prime quattro regine della regular season, e la quinta, che è il Cortina, che è uscito dal pre-play-off vincente sul Bregenze. La presentazione dei StartXX deve ancora venire, la vediamo a monitor anche di fronte a noi sul mega schermo del Olimpico, il Cortina che inizierà, come ha ricordato Mario, con Vainonen e il giovanissimo Erico Lark, classe 2000, scusate, E4, mentre davanti l'inedita prima linea, che forse va a sovvertire il setup classico del Cortina, con la seconda, quindi con Adamide e Zanna-Sanna. Sì, e aggiungo che ci siamo adattati alle linee dell'Asiago, perché chiaramente anche l'Asiago schiera sul ghiaccio in questo inizio di partita la, tra virgolette, seconda linea fortissima, con praticamente Marchetti mantenuto e Frey, tre degli italiani più forti. Assolutamente, salutiamo anche gli abitri Alex Lazzari, Federico Giacomuzzi, Andrea Carritto e Mauro De Zordo, giù il pacca centropista, si gioca con il possesso dell'Asiago, il recupero di Vainonen sulla neutra, con una mano lo scambio, Sanna, poi largo per Adami, arriva la prima conclusione, che non è proprio Vallini attentissimo, perché è ancora freddo, ovviamente devia sull'esterno della rete, niente di grave per l'Asiago, ma c'è stata una mini-occasione per il Cortina, subito nei primi 30 secondi, bravo il Cortina ancora a recuperare sulla uscita dalla ghiaccio da parte della prima linea, in questo caso l'Arker perde un disco, poi recupera in qualche maniera, un po' disattenta qui la manovra difensiva ampezzana, il passaggio lungo di Cordiano, non c'è l'icing, arriva il tocco di un giocatore asiagese, ma in anticipo c'era il giocatore della Cortina, quindi si gioca tranquillamente sull'Olimpico, sul chiaccio dell'Olimpico, Rosa, largo per Geller, c'è il primo offside del match, dopo un minuto 0-3, Cortina 0, Asiago 0. Bell'inizio, bell'inizio Luca, subito campanello dalle parti di Gianni Vallini con un bel tiro di Adami, e subito qualche piccola, sottolineo piccola, protesta per due minuti che secondo il Cortina potevano starci per farlo forse su Sanna. L'ingaggio ancora vinto, in questo caso da Marco Rosa, che scarica ritroso verso i suoi per ingresso in zona di McParland, lascia sfidare il pack, saltando filo Pietoniro, Cordiano mette ordine, già Pietoniro in difficoltà su McParland, va a dargli una mano qui Cazzola, ancora ritroso verso Cordiano, alza la pressione, l'Asiago e Cortina sbaglia l'uscita di zona, perché è alto il forecheck della linea di Rosa, vediamo se Pietoniro qui è bravo di disinnescare Rosa, è più bravo il numero 10, giallo-rosso sulla blu, l'ex Alex Geller, il tiro, il rebound concesso, fa buona guardia qui a Cazzola, in una posizione un po' inedita per lui, proprio davanti alla gabbia, ancora qui a dimostrazione del fatto di quanto è d'utile questo Mike Cazzola, arriviamo nel replay come ostacola, tante volte ha fatto meglio di tante volte di giocatori proprio di ruolo lì davanti. Sì sì, il lavoro sporco di Cazzola è settimane se non mesi che lo elogiamo, tante partite ovviamente dalla ottima qualità, ma anche tante partite con il classico lavoro sporco, difensivo, tanto patinaggio, tanta grinta per il giocatore ampezzano. Vancus, terza linea a confronto, Miglioranzi, autore del winning match goal dell'Odegaard con un gran gol, sotto l'incrocio nel terzo tempo, al gol appunto che ha deciso la partita, fa pressione la terza asiaghese nel terzo difensivo del Cortina, Luca Zanatta, ottima la carica, arriva Zanacela di gran carriera, mette fuori il pack, almeno mette a disposizione di Alessandro Zanatta il disco per una ripartenza affidata a Mike Zanatta che preferisce retrocedere, prendere tempo, usare testa, il passaggio di Zanatta non è preciso, nemmeno l'accoglienza del disco da parte di Davide Fadopa. Curiosità, veramente, i tre fratelli Zanatta tutti insieme in questa terza linea, non credo che capiti molto spesso in una squadra, in un playoff, avere tre fratelli che giocano insieme nello stesso blocco. La Zia Govanti, partita che è iniziata, ricordo, da tre minuti e mezzo in questo caso, non ci sono occasioni da raccontare, se non quella iniziale, la mezza occasione del Cortina. Anche qui, il Cortina troppo lungo, Barnabò cercava dall'altra parte Alvera, ma ancora zona neutra, presidiata dai giallorossi, ma troppo rischiosi anche questi passaggi che promettono comunque il classico ripartenza da parte della squadra che guadagna il disco a centropista. Marchetti, lo scarico per Casetti, tiro strozzato sul rebound, occasionissima, vera e propria, qui per l'Asiago, perde anche il bastone. Carica di Gheller, pesantissima, Barnabò che è senza bastone, quindi anche un po' precario nell'equilibrio. Sembra non subire così tanto il colpo a Barnabò, ma la carica è stata pesante da parte di Gheller, anche distante dalla balaustra, regolarissima, ma pericolosa. Guarda, io sono per non fischiare mai queste cariche qui, specialmente perché siamo al play-off, carica dura, ma stiamo giocando a hockey, quindi anche Luca Barnabò era pronto a riceverla, l'ha subita, perché chiaramente magari cede qualche chilo ad Alex Gheller, però giusto non fischiare, giustissimo. Qui Vijnonen spazza lo specchio, pulisce, passa l'aspirapolvere in maniera decisa nel suo terzo, forse un pochino sentiva la pressione, certo che regala un icing e un ingaggio in zona agli avversari che vanno subito a inserire la linea di Magna Bosco-Rosa-McParlane. Ancora Gheller, chiuso bene in prima battuta, poi la grande giocata di McParlane, McParlane, il tiro a fil di palo. Masiago sugli scudi in questi secondi iniziali, il disco si impegna, tocca le reti di protezione, ma c'è anche un tocco, non c'è nessuna, l'unica decisione sarà quella di un ingaggio in zona. Rivediamo nel replay l'azione, il tiro di McParlane finisce di poco, veramente a lato, poi il pack nel contrasto tra Giuseppe Magna Bosco e Marco Sanna va a finire sulle reti di protezione, oltre ai cristalli. Si ripete la stessa situazione, ma il Cortina ha avuto modo di cambiare e contrapporre la prima linea. Max Cordiano dietro la gabbia di Marco De Filippo. L'uomo di Saronno in ripartenza per Giptopoulos, ancora alto il forecheck degli aseghesi, che lasciano veramente poco spazio a Pezzani. Qui bravissimo Max Cordiano a trovare la situazione con l'uomo in più. Gran bel tiro anche dell'uomo di Saronno, non riesce a raccogliere poi in un secondo momento chat pietoniero, fa circolare il disco con un po' di sfortuna cazzola. Che bella riposizione di Max Cordiano ed è riuscito a uscire da quella trappola che stanno creando gli aseghesi tra la rossa e la blu. Bellissima l'uscita di zona in questo caso. Tutto nasce da un autotunnel di Remy Giptopoulos con un disco lasciato là per Mike Cazzola. Mike Cazzola serve Cordiano che salta netto l'uomo, entra nel terzo, tira, para a Gianni Vallini, anche se mi sembra un Gianni Vallini. Speriamo di tirare un po' di sfortuna dalle sue parti. Non brillantissimo con questi due primi interventi, non proprio sicurissimo. Sì, è vero, è vero. Occasione per il Cortina adesso vanificata però in un passaggio che non arriva a destinazione e trarrà sull'asse Cazzola. C'è offside qui e secondo il mio punto di vista non c'è nessun braccio alzato. Protesta la panchina del Cortina, gli aseghesi non escono, quindi giustamente rimangono nel terzo visto che nessun linesman ha il braccio alzato. Qui il break sulla pan, disco per Giptopoulos e Fontevallini! Non c'è gol, ma chissà per quale motivo Mario? Non lo so, rivedremo, Remy Giptopoulos ha fatto un gesto tecnico pazzesco nel mettere giù questo disco che era praticamente un missile che gli arrivava dal nostro terzo e forse gli sono mancati quei 20-30 centimetri per dribblare del tutto Johnny Vallini che con un po' di fortuna si ritrova il disco sotto il gambale e poi sotto il guantone. Un po' la riproposizione del gol del pareggio all'Odegaard, questo lancio, chiamiamola calcistica. Anche se Remy Giptopoulos ha avuto un po' meno ghiaccio a disposizione, un po' meno tempo perché il difensore comunque è arrivato subito a dar fastidio. Bravissimo soprattutto nello stop di questo disco perché non era per nulla scontato. Questa probabilmente sarà una chiave del match, almeno in questo inizio di partita vediamo l'Asiago di nuovo per stare ad andare vicino al gol, soprattutto giocare un forecheck molto molto alto e ben fatto e Cortina ha le sue consuete difficoltà nel uscire dal terzo soprattutto se messo sotto pressione. Quindi trovare lo spazio con un passaggio che taglia tutta la neutra, tutta la zona tra le due blu oppure con un'idea particolare come quella che avevamo appena curato in precedenza con il velo di Giptopoulos per la ripartenza di Cordiano. Forse sarà questa la chiave di lettura di questo primo tempo dove l'Asiago probabilmente continuerà a spingere, a premere, a tenere bassi gli ampezzani e Cortina dovrà essere bravo a non sbagliare soprattutto nei passaggi come abbiamo visto un po' nei primi minuti. L'Asiago che adesso va a liberare, non c'è Aising, allarga le braccia l'arbitro, Mike Zanatta sul pack dietro la gabbia. Non ha compagno da servire, esita un po' qui il numero 58 a Pezzano, regala il possesso agli avversari, poi si creano un po' di confusione gli uomini, tutto scaturito un po' da un'idecisione della squadra ampezzana. Zanatta su Zampieri, arriva anche Luca Zanatta, ancora il 60 contro il 40 a Feltrino che gioca ad Asiago, appunto Zampieri, sbagliano qui gli ampezzani, arriva il tiro di Lievole, la parata di Marco De Filippo, Cortina un po' in confusione, vediamo se riesce a mettere in ordine proprio con l'uomo di maggior fosforo, Luca Zanatta che aspetta l'arrivo sul ghiaccio degli uomini della quarta, appunto che sono Moser, in questo momento proprio sul pack, Damp lungo per Alverà che prova ad anticipare, bene qui Miglioranzi, bravo Alverà, assistito e assecondato da Andrea Moser nell'angolo a sinistra di Gianni Vallini, lo scarico sulla blu per Larker, bravo qui a girare per Vainon, Vainon in corridoio centrale, deviazione di forse Tommy, ma che si impenna. Comunque bravi, bravi gli ampezzani, entrati bene nel terzo, Moser per Tommy Alverà, bravissimo ad anticipare il difensore asiagese, scarico ancora di Moser per i difensori e arriviamo al tiro, bello vedere questa linea che comunque prova a creare gioco, prima qualche piccola difficoltà perché in uscita tre volte, tre giocatori diversi hanno rischiato e sbagliato, questi sono gli errori che non andranno commessi per non regalare occasioni all'asiago, oltre al fatto della disciplina. Bell'azione qui d'ingresso nel terzo da parte di Esaghesi, qui bisogna approfittarne e andarne con la ripartenza, anche se i distellati hanno già ripreso ghiaccio, sono tutti cinque uomini sul cambio di linea ampezzana, sono andati già a chiudere. Ancora qui Marchetti, un po' in difficoltà sul contrasto con Barnabò, lo stesso Oronzano non riesce a mantenere il processo, mantenuto a ritroso verso Forte, Forte alza la testa, se non sbaglio potrebbe essere lui, anzi forse non era Forte, ma era il giovane terzino della quarta linea dell'asiago, Cortina riesce a mettere fuori, non ci sono grandi sussulti a livello tecnico finora, due squadre e un Cortina che ha iniziato un po' meno bene dell'avversario, però adesso piano piano si sta riprendendo un po' il ghiaccio, Mario. Eh sì, comunque una partenza del Cortina molto molto migliore rispetto a quella di gara 1, perché veramente il primo tempo ad Asiago è stato abbastanza a senso unico, l'abbiamo detto già in presa diretta qualche giorno fa, il fatto che sia finito 1-0 è stato l'aspetto più positivo, tanto è vero che poi il Cortina secondo e terzo tempo era riuscito a riportare la partita in pareggio. Sì, infatti un primo tempo con un vantaggio minimo dei padroni di casa, soprattutto alle grandi parate di Marco Di Filippo e alla sua consueta sicurezza. Riparte da basso il Cortina con quattro uomini nel terzo, ma il cazzolo deve fare tutto comunque da solo, il top plus è fermo ad aspettarlo oltre la neutra, lo scarico per Zanatta, non ci sono spiragli, non ci sono pertugi, marcature sempre ben strette, ma soprattutto un Asiago che gioca con cinque uomini tra le due blu. Luca Zanatta, cerca di anticipare Vankus, che è bravo, arriva anche Luca Zanatta in seconda battuta con l'aiuto del fratello, passaggio alto, ma ha ricevuto con la mano da parte di Chat Pietoniro, gira largo il 47 a Ampezzano, giroporta per lui, stop and go per Cazzola, disco non perfetto per Giftopoulos, ancora Cazzola però a lavorare in balaustra, ti dice Ampezzano, fa un gran lavoro qua, tiene alto il disco, tiene il possesso Ampezzano, Chat Pietoniro invece non fa quanto bene, perde il primo tocco, regala un break agli avversari, Cortina può andare a cambiare, attenzione però un 4-3, anche qui, al limite dell'ossa è forse l'ingresso, Faloppa mette fuori, non c'è Isings, ci arriva Giftopoulos, infatti esce Vallini, quindi si gioca a continuo qui all'Olimpico, Cazzola con molta diligenza, recupera il disco, va a cambiare, regala il disco a Larker, che poi a Vain, non attenzione a non perdere, lo recupera adesso Davide Faloppa, lo rimette in discussione, c'è il forcheck di Zanina Cedelli, bravo nel primo tempo, bisogna tenerli bassi, assolutamente non far giocare l'Asiago, mantenere il possesso del disco è fondamentale, per acquistare fiducia, che andrà crescendo durante il match, più c'è possesso, più ci sono anche occasioni, Zanina Cedelli non bravo nel primo controllo, fila via bene liscio, ottimo il delay ed elegante, sulla blu per Larker, ancora lungo la banda, il carosello, che però non vede trovare nessun giocatore, se non Cordiano sulla blu, che sbaglia il primo tentativo, per la ripartenza dell'Asiago, che entra in zona, con una mezza occasione davanti porta, chiuso qui da Rico Larker bene, per ancora Faloppa, che deve ripartire con un passaggio, che arriva sulla stecca adesso di Max Cordiano, dalla retrovia, arriva Tommaso Alveracche, va a prendersi questo disco, anzi no, bravo ancora Larker qui in uscita, con il suo, almeno quarto blocco, Mario, passati già dieci minuti, partita piacevole, non ci sono state grandi occasioni, forse quelle più eclatanti, un paio sono state, anche se Marco De Filippo, non si è dovuto proprio, così, arrivare al gran lavoro, a uno straordinario, diciamo così, proprio sulle stecche dell'Asiago. Sì, ma ancora nessuna grossissima occasione, io la pareggerei, insieme a quella di Remy Giftopoulos. Barnabò qui compie un ottimo gesto tecnico, girando la porta, andando a colpire sul primo palo, e attento però Vallini. 0-0, a 10.14 dalla fine del primo tempo, ma sottolineo veramente, che il Cortina, rispetto anche alla partita di Asiago, sta provando a giocare, a costruire, a creare belle azioni da hockey, e questo lascia molto ben sperare, perché comunque, stiamo rispondendo colpo su colpo, al fortissimo Asiago. Che ricordo, ha sempre avuto un po' di difficoltà, qui l'Olimpico, in stagione regolare, nel match di ritorno di Return to Play, non bisogna abbassare la guardia, ma un Cortina decisamente, molto buono, qui bravo Sanna, a saltare Gellert, si allunga il disco, brutto il fallo qui, e c'è infatti il fisco arbitrale, fuori da gamba, lungo la corsa di Sanna, bravo l'arbitro, anche se leggero ritardo, perché sembra abbia quasi, alzato il braccio alla nostra chiamata, Mario. Sì, il fallo è nettissimo, non c'è il minimo dubbio, su questo fisco arbitrale, che però è arrivato, con qualche istante di ritardo, non si capisce perché, questo è fallo tutta la vita, due minuti, primo power play, per gli ampezzani. Fuori in Marchetti, e quindi prima situazione di uomo in più, per il Cortina, si va a confabulare, con la panca di Ivo Maasca, con il primo special team, non credo ci sia un time out, ci sono forse... No, no, c'è il power break, che arriva al momento perfetto. Perfetto, noi diamo ovviamente la linea alla regia, per gli annunci pubblicitari. Torniamo in diretta anche su cortina.it, per raccontarvi il resto, ne manca parecchio, 9.55 di questa prima frazione della gara 2, di quarti di finale, tra Asiago Migros e Afro Cortina. Cortina è power play, e questo power play lo seguiamo, con molta, molta attenzione. E bravissimo Marco Sanna a conquistarselo, perché ha veramente, ha creato un'azione personale molto importante. Luca Zanatta, ostacolato da Rosa, riesce comunque a non soffrire troppo il forcheck del fortissimo 91 del Asiago. L'ingresso in zona qui a Buono, con Chat Pietonino, che cerca la collaborazione del fratello, alla fine deve fare tutto da solo. Il rimbalzo in balustra verso Remy Giftopoulos, lo scarico rischioso verso Zanatta, ma ben tenuto il disco dei Ampezzani, verso il centro, passaggio anche questo non preciso, perché arriva proprio sul pattino, quindi un po' di colpa di Remy qui, che aveva spazio. Anche se secondo me non era il passaggio per Chad, intercentato il pattino di Chad Pietronino, ma il passaggio era per Mike Cazzola dall'altra parte. Proprio lui adesso sul pack, e dall'altra parte del ghiaccio rispetto a Ballini. Gira largo Giftopoulos, servizio per Phil Pietronino. Ancora lo scambio tra i due, non si trovano, poi riesce comunque a mantenere il possesso di Cortina. Ovviamente è facile pensare che l'arma a Phil Pietronino sia talmente troppo prevedibile per gli asieghesi che lo conoscono già appunto dalle stagioni giocate all'Odegaard, quindi sarà difficile trovi la via del tiro, se non come in questo caso, non così violenta e precisa. Sempre marcatura alta su di lui, c'è da sperare che la scatola asieghese non faccia il suo bel lavoro, o che il Cortina abbia un'idea diversa nel powerplay. Cazzola, Giftopoulos ancora prende coraggio, cerca la porta di Ballini, arriva il tiro, paro a Ballini senza problemi qui. E comunque guardiamo il lato positivo, il Cortina con questo primo special team riesce a entrare con abbastanza facilità nel terzo, dopodiché inizia a girare il disco, l'Asiago veramente non è mai riuscito a liberare. Ed ora vediamo la sorpresa per quanto ci riguarda, per chi segue mentre il Cortina, gli ultimi special teams, i secondi hanno dato un po' di difficoltà, poche idee e anche un po' di amalgama, diciamo così, non ben affinata, affinata, si è cambiato spesso il secondo special team, questa sera torna in una forma inedita, con i due fratelli, anzi, solo Maizanata e Vainonen, e attenzione, non sono due fumi di guerra, molto bravi con la gestione del disco, molto bravi col corpo, però bisogna stare attenti, è appena ti chiede l'avversario, che non possa ripartire, visto che i due giocatori hanno tante grandi doti, ma non quella della velocità, quindi bisogna stare molto attenti anche, e affidarsi anche ai back check dei vari Sanne e Barnabó, che sono sicuramente giocatori molto veloci. Cortina inizia a mare, anche questo secondo special team, subisce subito anche una conclusione dell'Asiago, e forse qui potremmo andare a spingere, anzi no, perché si torna a giocare in 5 contro 5 all'Olimpico, 7.45 al termine, 0-0 il risultato, OK Night, su Radio Cortina e OKCortina.it, Mario Pizzamore, Luca Zaninacelli ai microfoni, di entrambe i due supporti mediatici, Alessandro Zanatta nell'angolo, buono il suo lavoro, servizio per Faloppa, che butta il disco nel centro, trova Phil Pietro Niro, ancora Alessandro Zanatta a lavorarlo, attenzione però c'è la ripartenza degli stellati, Marchetti aggira la gabbia, mette un disco al centro, chiude bene prima col bastone, strozzando la traiettoria cordiano, poi Marco De Filippo mette giù la mano sul gaccio. Bravo, bravo Max Cordiano, perché Marchetti aveva preso molta velocità, Max Cordiano lo accompagna, non lo fa andare via, e dandogli fastidio col bastone, costringe al tiro Marchetti, non pericoloso per Marco De Filippo. 0-0 ancora, occasioni veramente in generale, in totale, si possono veramente contare su le dita di una mano, Cortina ha ovviamente l'obbligo di vincere questa gara 2, Nasiago può attendere anche ovviamente una sfida, ricordo se giocherà la meglio delle 5, il Cortina vincendo porterebbe in parità la serie, andrebbe a giocarsi gara 3 all'Odegaard giovedì sera, ci saremo con Radio Cortina, ma è ancora da definire se effettivamente dalle 19, come previsto all'inizio del match, oppure con qualche minuto di ritardo, per ovviamente altre disposizioni del palinsesto dell'emittente Ampezzana. 7 minuti al termine, ancora in gaggio dopo la liberazione vietata, Cazzola di fronte a Marco Rosa, gaggio vinto dall'Ampezzano, ancora per Max Cordiano, che sta iniziato molto bene la sfida, Pietro Niro, passaggio strozzato, ancora Forcek dell'Asiago molto alto, si ripetono le difficoltà del Cortina, di riuscire a trovare una via di uscita, dal proprio terzo, Magna Bosco, la buona finta, non ci casca però, c'è Pietro Niro, rimbalza in balausta per un chip, che viene di nuovo riconquistato dagli Asegesi, che ributta nel pack in zona, pressione, Cordiano, ancora costretto a sbagliare il passaggio, non c'è Ising, il disco rallenta anche, con un po' di nevischio davanti alla panchina degli Asegesi, ma forse non ci sarebbe stato lo stesso, visto che c'era Giftoplus di vicino, qui Cortina si apre un po', attenzione, un 3-2, recupera Cazzola, la grande giocata di Gellert, dietro la gabbia, porta spasso la difesa del Cortina, Gellert per Marchetti, cerca il primo incrocio, trova solo le reti di protezione, in avanti alla curva del Cortina, 6-16, 0-0, Cortina torna un pochino a soffrire. Copre bene il primo palo, Marco De Filippo, devia con la spalla, disco che si impenna, bella azione poco prima di Alex Gellert, un ex, tanti gli ex in questa serie di play-off, tra Cortina e Asiago, speriamo siano decisivi tutti, così vuol dire che abbiamo un vantaggio, quantomeno numerico. Fammi pensare, sì è vero, stavo guardando se c'era qualcun altro nell'Asiago, hai ragione Mario. Bruta l'uscita qui di Vainonen, tantomeno l'approccio, il tiro, forse la traversa Mario, una gran parata di Marco De Filippo. Parata, parata. Non è De Zanna, a ritroso per l'Arche, deve velocizzare qui il Cortina, non deve aspettare che l'Asiago si disponga di nuovo, per creare for check nella zona neutra. E qui c'è la liberazione probabilmente dell'Asiago, un buon segnale, si torna un pochino a respirare. Eh sì, anche l'Asiago comunque non può essere sempre perfetto, qualcosa dovrà prima o poi concedere, in questo caso Ising, e immediatamente Coach Macchia manda il cambio ai giocatori, mette sul ghiaccio la quarta linea mi sembra. Eh la seconda mi sembra. Seconda, 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 come non detto, giocatori freschi per sfruttare la liberazione vietata dell'Asiago. 5-51, ingaggio vinto da Adami, disco però non tenuto dentro dalla difesa ampezzana, Zanatta per Zanatta. Luca e Mike si scambiano il disco, lo scarico, c'è l'Aising, è fischiato anche qui, forse un po' in anticipo. Sì, molto in anticipo, proteste secondo me giustissime di Francesco Adami, che chiaramente era il primo che sarebbe arrivato sul ghiaccio senza l'uscita di Vallini, quindi continua a protestare Adami. e ripeto, secondo me le proteste sono più che fondate. Vediamo se c'è un... Anche Mike Zanatta arriva a protestare. Però la scelta viene confermata, forse per il rimbalzo in bala Ustra, quel disco che era arrivato... Sai che secondo me l'arbitro ha detto proprio scusate per il fischio, perché ha detto a Mike Zanatta e ad Adami, guarda ormai ho fischiato, ho capito le proteste. Però Mario se mi permetti, in questo caso se ha messo la colpa, l'ingaggio deve essere fatto a centropista. Eh... In questo caso, se ha messo l'errore, altrimenti vuol dire che non l'ha messo. Questo è il regolamento. Bene. O l'ha messo ma ha fatto vita di niente. Sì, a metà diciamo così. Comunque non c'era l'icing in poche parole. Esattamente, bravo. 5-19, Cortina riguarda il disco adesso con Zania Cedelli, dietro la gabbia per Mike Zanatta. Aspetta che il disco si metta giù. Cortina un pochino, sempre un po' lento nella ripartenza. Deve accelerare qui la squadra ampezzana. Vediamo Mike Zanatta se dà profusione a Barnabo, che lo scarica il disco che si impenna. Non è pericoloso per Vallini. Buono il check e anche il tiro da parte di Alessandro Zanatta, che cercava di colpire a sorpresa sul primo paro da posizione impossibile. Gianni Vallini, bravo Cordiano qui a saltare, anzi a chiudere su mantenuto. Poi l'aiuto di Zania Cedelli, ancora Cordiano, ancora il numero 60 ampezzano. Lo scambio dentro, disco fatto bene qui. Adesso farò, padeva andare a creare pressione su Parini. Mantenuto, Zania Cedelli per un momento riesce a tenere il disco. Anzi lo fa in due tempi, però poi non è assecondato, non era facile. Buono il cambio qui, però, della terza, il miglior cambio della terza finora, che riesce a creare importante superiorità numerica nel terzo avversario. E ce la dire che, dall'altra parte, ci sono giocatori molto validi, quelli infatti che compongono la prima linea, quella di Frey, Mantenuto, e Marchetti, se non vado errato. 4-12, Mario, 0-0 risultato, occasioni che ancora mancano, due parate però, la prima che hai notato tu, di Marco De Filippo, sul latino di Marchetti, con la spalla, la seconda molto più importante, perché era una conclusione rapida, veloce, sull'altro incrocio dei pali, dall'altra parte. Eh sì, inizia ad arrivare qualche parata di Marco De Filippo, il fortissimo portiere Ampezzano, il più forte della Lega, lo confermiamo anche questa sera. Dall'altra parte, Johnny Vallini impegnato soprattutto nell'uno contro zero di Remy Giftopoulos, per il resto, normale amministrazione. Sì, avevamo visto all'inizio proprio Vallini sui primi due interventi poco sicuro, sicuro, c'eravamo un po' illusi. Ma bisogna, bisogna continuare, a tirare, a dargli fastidio, secondo me, qualcosa a livello di, eh, attenzione, perché qua, secondo me, potrebbero starci altri due minuti. Gli abiti decidono invece che si può continuare a giocare all'Olimpico, forse hanno visto meglio di noi. Sì, poche anche le proteste, quindi probabilmente abbiamo visto o visto male io. Magna Bosco. La ripartenza, largo il pack, prova una conclusione fermata dai pattini di Vainonen, Rosa qui chiuso, bene dal Cortina, cade a terra, però il giocatore Pezzano che subisce un po' il colpo con la Valla Ustra, forse, Cial Pietoniro, ancora cazzola, lavorare un disco in una stazione un po' caotica, lì, una roulette russa, esce il pack a favore di Gellert, Gellert, giro porta di Gellert, assistenza centrale per l'ottimo back check di Barnabó qui che va a fermare un rigore in corsa da parte del giocatore asiaghese, quindi occasione e tiro strozzato dal rientro di Barnabó sul giocatore liberissimo davanti porta, altra occasione per l'Asiago, ma grande giocata qui di sacrificio, come è giusto che sia, da parte di Barnabó. Eh sì, bravissimo il 24 ampezzano, rende più difficile il tiro e facilita di contro la parata di Marco De Filippo che poi è anche bravissimo sul rebound a parare di Gambale, doppia parata in fila, tiro dopo tiro, si rimane sullo 0 a 0, bravo qui ancora Alex Gellert che un po' ci sta facendo soffrire con la sua pattinata velocissima a passare dietro porta e a trovare poi la corrente centro asiaghese. Alex Gellert che arrivò in Italia diversi anni fa figlio dello storico giocatore di Gardena Allega e Milano Kim Gellert arrivò in Italia a Milano l'anno successivo subito a Cortina per un giocatore che convinse a metà acquistato come difensore le sue attitudini erano più che altro offensive ma torniamo subito live per, anzi ci possiamo interrompere immediatamente il disco è fermo ricordando appunto Alex Gellert venne lasciato libero forse un pochino in anticipo grande pattinata giocatore dalle doti difensore dalle doti offensive che tanto spesso veniva utilizzato proprio come attaccante e poi una mezza stagione a Bolzano dove non è per gran fortuna e poi insomma già da un po' che è diventato un giocatore fondamentale si è disciplinato ed è un giocatore fortissimo per questo campionato e per l'Asiago stesso è cresciuto parecchio Alex ad Asiago giocatore veramente molto molto pericoloso per questa Lega chiaramente erano anche altri anni altre Lega anche la sua prima esperienza in Europa insomma quindi ci sta che il giocatore negli anni sia comunque diventato più forte ed è diventato il giocatore che è oggi 2.19 al termine sempre 0-0 l'Olimpico la ripartenza dall'Asiago il cortina si chiude numericamente bene tatticamente un po' meno perché lascia il possesso gli asagesi con una netta predominanza di maglie blu nel terzo abbiamo visto prima un'uscita di zona non perfetta di Mike Zanatta ricordiamo come i due Zanatta prima Mike e poi anche Luca nel suo rientro di questa sera soffrono di una situazione fisica non perfetta Mike Zanatta è rientrato se non sbaglio in gara 2 con i Bregenze Mario o forse solo in gara 1 forse tutta la serie ecco grazie Mario che mi correggi no veramente dicevo che subendo non ricordo ma credo proprio gara 1 gara 1 si hai ragione è comunque sta giocando con una sublussazione alla spalla quindi è comunque fastidiosa magari con gli antidolorifici si riesce a togliere il dolore ma è molto fastidiosa Luca invece rientra questa sera dopo settimane di inattività colpo subito ancora nel finire della regular season addirittura con le precauzione quindi insomma beh è importante che sia sul ghiaccio stasera mi sembra sia anche discretamente in forma elemento che anche diciamo con una gamba può dare il suo apporto fondamentale alla squadra ampezzana tutto da rifare face off a 1.35 dalla termine alla destra di Johnny Vallini si affrontano le terze line con i loro centri Zardini da Cedelli all'ingaggio il pack rimane lì poi viene soffiato dagli ampezzani con Falopa il delay nell'angolo lo scarico a favore di Alessandro Zanatta due stori fisici chiuso bravo a recuperare il disco vagante a restituirlo alla fine il disco però non arriva a destinazione ancora Falopa a mettere il turbo arrivare in anticipo sugli asagesi nell'angolo Zaria Cedelli con Cattiveria per una terza linea che adesso si sta conquistando bene il terzo sta tenendo alto e stancando i giocatori avversari veniamo dal sasso disco però adesso sulle stecche degli stellati della squadra di Mattila break offside secondo me ci poteva stare con Zampieri che bravo resiste alla carica di Filippo Niro il giovane giocatore Feltrino disco al centro per mantenuto arriva alla conclusione c'è il block shot da parte di Zania Cedelli che in qualche maniera riesce a mettere fuori bravo a mettere il baricentro basso a mettere forza sulle braccia e a non farsi portare via il disco attenzione al cambio 44 secondi del termine mantenuto lo scarico in tandem per Geller la prima finta su Cazzola sbaglia il passaggio sbaglia anche l'asiago Cortina non ne approfitta per andare in break si è chiuso bene l'asiago il disco non era facile da fare da creare una ripartenza vero Mario? peccato no? sono mancati un po' di centimetri liberi per Mike Cazzola per lanciare in contropiede anche qui intervento scomposto molto dubbio andato a cercare solo l'uomo qui a Frey su Charles Petronino una carica molto dura forse mentre ha i limiti io rimango della mia idea ai playoff va benissimo non fischiare questi falli chiaro è che poi deve essere mantenuto lo stesso metro da entrambe le parti e mantenuto non è un gioco di parole no 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 finisce intanto il primo tempo 0 a 0 all'Olimpico 0 a 0 all'Olimpico tra Siago Migros e Afro Cortina gara 2 di quarti di finale ricordo gara 1 è andata agli stellati campioni d'Italia con il risultato di 2 a 1 dopo tre tempi per il match giocato sabato sera ero i 19 questa sera la partita è iniziata alle 20 se ne va così la prima frazione sostanzialmente equilibrata un buon primo tempo poche occasioni vedremo sicuramente più hockey nei restanti 40 minuti cediamo l'inanaregia di hockeycortina.it noi ci sentiamo e rimaniamo un po' su Radio Cortina con i nostri radioascoltatori l'inanaregia grazie l'inanaregia l'inanaregia un buon primo tempo e l'inanaregia e l'inanaregia e l'inanaregia e l'inanaregia e l'inanaregia la prossima e l'inanaregia e l'inanaregia Sono le 20.45, siamo ancora nell'intervallo di gara 2 tra Cortina e Asiago, 0-0 dopo i primi 20 minuti. Sta scendendo sul ghiaccio l'Asiago, si fa attendere ancora qualche istante il Cortina, ricordiamo che gara 1 all'Odegar è finita 2-1 per gli stellati, serie al meglio delle 5 partite, quindi chiaramente questa sera passa un treno abbastanza importante da prendere per i ragazzi ampezzani se vogliono pensare di prolungare la serie. Primo tempo equilibratissimo, il risultato è 0-0 ed è la giusta fotografia di quello che si è visto sul ghiaccio. Qualche occasione da una parte, qualche occasione dall'altra. Johnny Vallini e Marco De Filippo hanno risposto presente più o meno a tutte le chiamate e si ripartirà tra 1 minuto e 50 secondi proprio dal punteggio di parità. Bene Mario, mentre sistemavamo anche il contatto con la regia di Radio Cortina, ci scusiamo con tutti gli ascoltatori che stavano seguendo gli importanti annunci di Radio Bazzar, ma noi questa sera con un po' di presunzione e arroganza ci prendiamo la cosa più importante, entriamo sugli annunci di Radio Cortina perché c'è un evento molto molto importante all'Olimpico che si sta giocando in questa fase di campionato, i play-off, i quarti di finale, l'Afro Cortina che è arrivata di nuovo a raggiungere un grande obiettivo e ha le possibilità e ambizioni di andare ancora avanti. Siamo solo all'inizio della serie, come ricordava Mario, gara 1 persa ad Asiago 2-1 sabato, primo tempo se ne va qui l'Olimpico di gara 2 sullo 0-0, segnali positivi da parte della Cortina soprattutto nei secondi dieci minuti della frazione iniziale. Sì sì, Cortina che ha risposto colpo su colpo, un po' al contrario di quanto era successo in gara 1, quindi questo lascia ben sperare perché chiaramente gara 1 aveva lasciato proprio questa sensazione, è un Asiago che provava a giocare a hockey, Cortina che invece faceva molta più fatica nella costruzione. Oggi invece si risponde colpo su colpo, partita equilibratissima, il Cortina c'è e quindi forza ragazzi, iniziato il secondo tempo. Enrico Larker, buono il pack per De Zanna, buono lo scambio con Sanna, nell'angolo il delay di scolcetto, ma Vainonen, il tio di Vainonen, fermato dai palastinchi di Casetti, poi Sanna ancora a lavorare di gran carriera qui, il disco di Balaustra con Adami, vediamo chi esce vincente dalla mischia, sono più bravi gli aseghesi che riescono a trovare anche il terzo uomo per la ripartenza, sempre affidato al numero 17 Casetti, prova le finte, gli va male, attenzione al tiro di Frey, strozzato, sempre pericolosissimo Alex Frey, anche se non in una stagione brillantissima come ricordavamo nel passato, ma il giocatore italiano tra i più forti e il suo tiro mette sempre paura. Eh, questo è il mismatch forse più importante, durissimo il compito che hanno i ragazzi della seconda linea, anche se ufficialmente è la prima questa sera, ma chiamiamoli così, quindi Adami, De Zanna e Sanna, perché hanno contro veramente il meglio che l'ho che l'italiano possa offrire, e quindi il loro è un compito difficilissimo. Una occasione per Mikko Vainonen, bravissimo poco fa, altra occasione di Frey per l'Asiago, quindi uno a uno anche nelle occasioni di questo inizio periodo. Arriva un tiro prima di Chat Pietroniro, su intuizione di Giftopus, una sorta di passaggio a seguire con l'imbalzo di Balaustra, e poi anche il giocatore, pensiamo che mi pare, Phil Pietroniro a servire e a concludere. Attenzione Rosa, si apre un varco, Rosa salta! Di prima intenzione Pietroniro e riesce a concludere, va a Marco De Filippo, tirano potentissimo, ma riparte e continua in break, il topo deve mettere il turbo e non sbagliare il passaggio, cosa che fa drammaticamente qui. Era difficile saltare l'uomo in corsa, quindi ha preferito forse scaricare subito. Eh sì, e di contro invece Rosa ha una facilità di tecnica e di dribbling veramente importante, si libera di Phil Pietroniro con una finta, bravissimo, ancora Marco De Filippo a tenerci aggrappati a questo 0-0. Ancora Marco Rosa con scioltezza, tranquillità, arriva nel terzo, viene fermato, sembrava inizialmente dai due Zanatta, ma ancora in possesso del disco d'Asiago. Backpallan, disco al centro per Vancus, arriva largo, lo scarico sulla blu al limite dell'offside per la conclusione di Miglioranzi, strozzata, disco ancora buono per gli asiagesi, continua un po' in difficoltà, possesso adesso Afro per la ripartenza di Alessandro Zanatta, che esagera nel suo passaggio, ma alla fine gli va bene con una deviazione che non consente la liberazione vietata, ci approva, ci prova Davide Faloppa, l'Asiago mette fuori, anzi no, Alessandro Zanatta rimette il pack in carosello dietro la gabbia, arriva prima il terzino dell'Asiago che è forte se non vado errato, per Stevanna, Miglioranzi, lo scambio, Vancus, prova ad andare a chiudere Vainonen, è bravo lo slovacco, bravo anche Vainonen però a chiuderlo, Enrico Larche mette fuori, Cortina prova a ripartire adesso, proprio con il numero 60 Pezzano, il buon passaggio, non trattenuto però in un primo momento da De Zanna, anzi da Alessandro Zanatta che riesce a trovare un ingaggio in zona, c'è un po' di fastidio anche da parte di Faloppa, ci sta andare a crederci o almeno dare riduzione di crederci, di fastidire un po' Gianni Vallini. Sì, anche in questo caso Gianni Vallini non precisissimo, para lasciando un rimbalzo appena 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 lungo, poi è bravo a recuperare immediatamente posizione e disco, ma i ragazzi a pensare devono crederci, devono dare fastidio su ogni disco, ogni giocata deve essere più difficile di quanto poi non è in realtà o quantomeno dare quella sensazione agli avversari. Bravo Mose, vince l'ingaggio, è la bella attitudine di questa sera che abbiamo vinto tanti face-off, Alverà dietro la gabbia su Di Luce Parini, giovane, bravo, terzino dell'Asiago, con l'aiuto di Dalsasso, la ripartenza della quarta linea dell'Asiago, Dievore, prova a girare largo, Vaino nel su di lui, lo chiude, il disco torna in possesso degli uomini di Ivo Maschka, Enrico Larker, Tommaso Alverano non precisano il controllo, non era facile, ancora però il numero 28 a recuperare, prova ad andarsene da solo qui, l'unica soluzione opportuna è quella appunto di provare a forzare, è peccato qui, Barnabò non riesce a soffrire il disco a Parini, riparte Zampieri, Zampieri cerca un uomo dietro di lui, prova a suggerire, l'idea è buona per Dievore, il tiro parato da Marco De Filippo, bella l'azione della quarta linea dell'Asiago, Cortina un po' statico qui, che lascia tutto un po' tranquillo agli asaghesi in zona offensiva. Sì, c'era un'occasione secondo me di rubare quel disco da parte di Luca Barnabò, comunque sono ripartiti i ragazzi asaghesi. Disco nello slot, pericoloso, c'è traffico, nessuno lo raccoglie, Cortiano prova la botta, deviata esterna, Adam e riconquistare il disco, Cortina cresce, carica, anche la partita sta crescendo di ritmo decisamente, Ronnie De Zanna per centro, il passaggio era perfetto, steso sul tappeto rosso con due ospiti di aspettarlo, nessuno lo raccoglie. Eh sì, era geniale l'intuizione di Ronnie De Zanna a cercare la deviazione, mancata di pochissimo, Cortina che però c'è e risponde colpo su colpo alle offensive asaghesi. La ripartenza adesso, quindi mantenuto, mantenuto, salta, un cordiano che tarda a girarsi con i pattini sul ghiaccio, però un altro break dall'altra parte, Cazzola, Cazzola ha una buona opportunità, il tiro di Cazzola, che tiro di un millimetro sopra l'incrocio dei pari, la destra di Vallini, la ripartenza di mantenuto, gran match ora, e lo stesso Cazzola che va a chiudere su mantenuto. Bravissimo, bravissimo, Cazzola, in questo tiro è uscito veramente di un millimetro, nulla avrebbe fatto Vallini, e bravissimo anche a recuperare poco dopo sul giocatore asaghesi, invece il giocatore che non si è mai girato e che stavamo seguendo con gli occhi era Ronnie De Zanna, forse non abituato al 100% a difendere in quella posizione, occasione per mantenuto, si rimane 0-0. Salta un po' la tattica, Vainonen, il tiro di Vainonen para ancora, quindi Gianni Vallini, buon tiro del finlandese, un altro tiro con il bastone perso da Vallini da parte di Cian Pietro Niro, la partita si anima, saltano un po' gli schemi tattici, squadre più lunghe, si gode di più lo spettacolo di questa gara 2 di quarti di finale, play-off scudetto, anzi play-off Alps Hockey League. E il cortina c'è, il cortina c'è, stiamo impegnando Vallini, dobbiamo continuare così, prima Vainonen, poi Cian Pietro Niro, a chiamare all'appello Gianni Vallini, che risponde ancora presente, ma io non lo so fino a quando può rispondere presente, bisogna continuare a martellare. Attenzione, ancora c'è uno switch sulla linea, perché tra le linee c'è la linea di Marco Rosa contro la terza Ampezzana, che però sta facendo bene, quindi cercherà di limitare i danni per poi dare più spazio alla prima linea proprio offensiva Ampezzana, che potrà andare a contrapporsi eventualmente alla terza o alla quarta dell'Asia, vediamo se sarà così poi le direttive tattiche dei due coach. Chi ne è dentro cortina? Chissà chi ha fatto questa scelta. Vai, non in giardia, ce l'hai detto la gabbia per la conclusione, prima attenzione di Faloppa. Tiro non preciso. Veramente occasionissimo, è uscito di poco questo disco di Faloppa. La relazione di partenza, disco Mario Parland deve essere bravissimo qui. E lo è, e lo è, fischia il fallo, non lo so, bravissimo Enrico Larker. Non sono d'accordo con questo fischio, proteste Ampezzana infatti di Moser in particolare. Bravissimo Enrico Larker perché secondo me ferma McParland regolarmente, trattenuta ma veramente lievissima. Questo è un fischio che non va fatto a un playoff. Qualche accenno di protesta di McParland o forse la sua sportività di ammettere che non c'era fallo, oppure la protesta che avrebbe avuto di più e forse il rigore, perché questo potrebbe essere interpretazione del gesto. Non c'è neanche il fallo, meno che meno il rigore, ed è proprio quello di cui Mikko Vynonen ha accusato immediatamente McParland dicendogli smettila di simulare e di portare le proteste. Anch'io mi ero corto di un braccio alzato Mario, l'hai visto uguale? No, onestamente quello non l'ho visto, stavo seguendo le vicende. Ho gli occhiali nuovi. Due minuti Enrico Larker, ripeto. Ah, ci sono i due minuti, no no, quello ti tendevo. Ah, perfetto, adesso torno a guardare anch'io il match. Due minuti che secondo me in un playoff, con il metro che stavano tenendo gli arbitri, potevano tranquillamente non essere fischiati. Quello che dicevamo, e qui non si tratta ovviamente di un'interperanza, di una sufficienza disciplinare, ma se c'è il fallo, se c'era, è andato a chiudere su un uomo che andava uno contro zero. Quindi il lavoro di Larker, per quanto ci sembrasse pulito, è stato penalizzato forse oltremodo dagli arbitri, ma doveva essere fatto in maniera pulita o meno pulita. Quindi gesto di Larker che si è sembrato veramente incredibile, perché fermare per un 17enne, un giocatore del calibro di McParlane, parla da sé questa situazione, questo duello. Ma seguiamo il palplay che è molto molto pericoloso. Per fortuna inizia male, per fortuna ovviamente per i colori ampezzani, inizia male la gestione del disco da parte della squadra di Matila. Per chiudere il discorso fallo, lievissima trattenuta di Enrico Larker, nessuno dice che la trattenuta non ci fosse, ma si poteva e si doveva assolutamente evitare questo fischio. Mantenuto, mette il turbo, entra nel terzo, aspetta compagni utili, lascia circolare il disco da un barra usta, la cero è prima di tutti i film Pietro Niro, vai non nessuna blu, rimbalzo è fortunato per i ampezzani. Il disco finisce dalle parti di Johnny Vallini, che aspetta forze fresche con un po' troppa calma all'asiago, riesce ad andare a recuperare il disco con un po' di imprecisione, Vankus deve andare a cambiare perché era nel primo special team, e se ne va un minuto di powerplay. Forte anche il 22 asiagese, giovanissimo Vankus, nome di cui sentiremo parlare veramente nel futuro di queste leghe. Il disco non trovato da Cortina, regolarmente ovviamente visto che il Cortina sta ancora difendendo, si sta ancora difendendo con l'uomo in meno, fuori Enrico Larker per il fallo di cui abbiamo raccontato. McParlane, lo scambio riuscito verso Magna Bosco, le finte dell'esotico José. Disco lungo, lo raccoglie Zanatta, prova ad allontanare, ancora un imbalzo fortunato qui per Cortina, Giftopoulos contro Vallini, arriva e rientro, Giftopoulos cerca il quinto buco, bravo Vallini a chiudere le gambe, ancora un po' lento Giftopoulos, è fatto recuperare un metro e mezzo buono dal terzino, sappiamo non è la sua peculiarità la velocità, bella occasione il Cortina in penalty killing. Eh sì, occasione più grande di questi due minuti con l'uomo in meno, è del Cortina, Remi non velocissimo, però era anche costretto a una posizione un po' defilata, para Johnny Vallini, ma Cortina che c'è, ottimo lavoro del nostro piquet, della nostra scatola, come d'altronde da qualche settimana a questa parte. Ancora ingaggio vinto qui da Chad Pietoniro, il Pietoniro prova la botta, si oppone Marchetti, disco per Vainoen in cabina di regia, Vainoen ovviamente allontana, su Vallini che raccoglie, e poi ovviamente lascia sfilare il disco, ma prima di tutti c'è Chad Pietoniro, positivo veramente il penalty killing il Cortina, perché se ne sta andando, la prima penalità contro gli Ampezzani, attenzione però sul finire, la patinata di Marchetti, dietro, scambio al centro, gran palata qui di Marco Le Filippo, però il disco è ancora attivo, un po' di fortuna e Cortina riesce a recuperarlo, deve allontanarlo, e considerare che si è tornato a giocare, 5 contro 5, qui il Cortina poteva essere sfortunato, su una deviazione davanti porta, di una conclusione asiaghese, va bene gli Ampezzani? Va molto bene gli Ampezzani, prima con un'apparatissima ancora di Marco De Filippo, poi con una deviazione che esce di pochi centimetri, dalla base del palo sinistro. Dal Sasso, l'è finita, grande lo scambio, poi si attarda, miglioranzi, nel colpo, che poteva essere veramente decisivo, la bella azione di Dal Sasso, ma ancora un Cortina troppo molle qui, in zona difensiva, e ora prova a ripartire, Alessandro Zanatta, disco dentro, dump per Tommaso Alverà, la finta, cercare di evitare la carica di Gellert, va male l'Ampezzano, più bravo Gellert, disco che si impegna, tocca le reti di protezione, ci sarà un ingaggio, lamentato da, giocatore dal Sasso, fuori dal terzo, in effetti ha ragione, anche se il tocco era impercettibile, ma l'ultimo tocco, è Ampezzano, stecca di Moser, se non sbaglio, quindi, giusto riprendere con un ingaggio, fuori dal terzo, abbiamo avuto, un minuto e mezzo, subito dopo la fine del powerplay, veramente difficile, più difficile di tutto l'intero powerplay, eh sì, sicuramente sì, occasionissima per Remy Giftopoulos, con l'Asiago, con l'uomo in più, un minuto abbondante invece dell'Asiago, con due, tre occasioni grosse, bravo cazzola, qui approfittare le decisioni di Frey, sul passaggio di Parini, Giftopoulos mette fisico, corpo e determinazione, per andare a tenere alto il possesso Ampezzano, si deve distogliere da questo, che era una carica, era una trattenuta, praticamente, tutta la vita, tutta la vita, c'erano questi due minuti, si hanno fischiato prima, tutta la vita, avanziamo due minuti nettissimi, e qui la carica di cazzola, non fischiati, anche questi erano due minuti, bisogna essere onesti, colpo di cazzola alla testa, con l'uomo vicino alla balaustra, arbitri, che hanno perso totalmente, la partita, scusa Luca, no no scusa te Mario, volevo solo sottolineare, come vediamo se sono i propri, lo rivediamo Mario, scusami, come l'altro fosse girato dall'altra, guarda, sono sicuro di aver visto, tutto benissimo, fallo su Remy, nettissimo, per lo sgambetto finale, con il piede, e due minuti, che ci sarebbero stati, su Mike Cazzola, per carica irregolare, chiaramente, fischi i primi due, su Remy Giftopoulos, tutto il resto, non sarebbe successo, arbitri, che hanno perso, il, eh, possesso della partita, quantomeno in queste fasi, sì, anche perché il fallo di, eh, Cazzola, per quanto pericoloso, è da condannare, sembra proprio, dettato dalla reazione, da nervosismo, chiaramente, io non capisco come fai, a non fischiare un fallo, su Remy Giftopoulos, quando sei a un metro dall'azione, dopo che hai fischiato, quel regalo, del fallo, di Enrico Larker, su McParland, è passato, un minuto e mezzo, due minuti, non esiste non fischiare questo fallo, direi proprio di sì, vediamo se la regia ci propone anche il resto, perché comunque, Mike Cazzola, no, va a cercare, e c'è l'arbitro girato di spalle, con il disco vicino a lui, anche questo fallo di Mike Cazzola, chiaramente, c'era, tatticamente l'arbitro, anche qui, sulla posizionamento, perché era di spalle, non l'avevo visto, è un playoff, devono essere al massimo della forma, i giocatori sul ghiaccio, Cortina, Asiago, noi in tribuna, tutte le dirigenze, ma devono essere concentrati anche gli arbitri, e ora ovviamente la panchina di Matila, che potesse, giustamente, anche per, per chiaramente il fallo di, di Mike Cazzola, e per apparco un dicio, vanno a spiegare anche gli arbitri, ovviamente, cosa si è accaduto, cosa, di cosa avevano parlato con, il coach finlandese dell'Asiago, Alex Lazzeri, e Federico Giacomozzi, non proprio perfetti, gli diamo ovviamente, la possibilità anche loro di sbagliare, ma sicuramente c'è il rischio di compromettere un match finora, corretto, non nervoso, una sfida di playoff, che in questo secondo tempo, stava prendendo il largo, e dandoci veramente, grande beatitudine di spettacolo Mario, e queste cose possono rovinare un po' anche quello che è, lo spettacolo di cui vogliamo godere, indipendente dal risultato, ma certo, poi se mi nervosisco io in tribuna da tifoso, figurati anche i ragazzi sul ghiaccio, quando, De Zanna, disco il centro, Adam mi è girato però, quando si vedono, non fischiati cose di, di, così eclatanti, eclatanti proprio, Sanna, alza la testa, buono il servizio, scelto per Vai, non è per De Zanna, il tiro di De Zanna, sul corpo di, Vallini, aveva lo specchio piuttosto aperto, qui Ronny De Zanna, colpito di fretta e furia, più De Zanna che c'entra Vallini, che è una vera e propria parata, dell'estremo asiagese, peccato, peccato, non rivediamo, veramente peccato, Ronny, poteva e doveva angolare un po' di più, c'entra in pieno il petto di Vallini, siamo arrivati quasi a metà match, 10.22 al termine del, secondo periodo, sempre 0-0, risultato all'Olimpico, salutiamo tutti i nostri amici di, okeycortina.it, e quelli di Radio Cortina, ingaggio, da qui, esce vincente Faloppa, Faloppa in due tempi, il tiro, ancora lui, buono, ancora la terza linea, ingaggio, con pack perso, ma tenuto lì, Faloppa abbandona i baffi esterni, per andare a prendersi questo disco vagante, con molta prontezza, è bravo proprio nella volata, andare a prendersi questo disco, nello spazio vuoto, tenta la conclusione, era difficile trovare forza, e angolazione, da quella, da quella parte del campo, da quella parte dello specchio della porta, ingaggio dall'altra parte, rispetto a Gianni Vallini, Zardina Cedelli, ancora medesimo, il, la tattica di tenere il disco fermo, tra i due contendenti, Zardina Cedelli, è costretto a retrocedere, con il rovescio del bastone, verso Mike Zanatta, Mike Zanatta alto, non c'è, Ising, Alessandro Zanatta, ci arriva, esce Gianni Vallini, quindi si gioca, regolarmente, per la pressione della terza, con Mike Zanatta, che non deve perdere il disco, molto bravo, Zardina Cedelli fa circolare, per Faloppa, alza la testa Faloppa, però deve aspettare qui, deve guardare più al possesso del disco, il Asiago può liberare, qui ci potrebbe essere liberazione, c'è Parini, ma c'è l'anticipo, Zanatta, anzi Zampieri, era il giocatore dell'Asiago, Faloppa ancora sul ghiaccio, deve andare a prendersi, ovviamente, il suo meritato riposo, infatti è un po' poco lucido qui, perché non riesce ad andare a cambiare, è l'uomo dall'altra parte della panchina, quindi diventa un po' difficile, Mike Zanatta, Luca Zanatta qui non le aiuta, ma c'è la pressione dell'Asiago, che si alza, per la parata di Marco De Filippo, ben Cortina, un po' a ruffone, se vogliamo, in questo ultimo minuto e mezzo e due, però che tiene lì l'Asiago, si esce qualche occasione, e insomma poi Cortina rischia un po', e arriva anche il power break per la nostra regia, mentre rivediamo il replay nell'ultima conclusione dell'Asiago. Fa sembrare veramente tutto facile Marco De Filippo, anche questo disco bloccato senza nessun problema. Diamo la linea regia per il power break, per la pubblicità su walkcortina.it. per lo streaming di questo match, salutando tutti i tifosi ampezzani, tutti i tifosi dell'Asiago, le curve dei fatti duri, ultra scortina, della armata giallorossa, i cimbi armati, e insomma tutti quelli appassionati che affollano le tribune, generalmente dell'Odega, le sarebbero stati in tanti anche qui questa sera, come la sfida richiama, oltre al valore stesso del playoff, anche ovviamente il fascino di due squadre importantissime, però che italiano, e il derby Veneto, ovviamente che si ripropone dopo la Final Four scudetto di quest'anno, che ricordo è andata l'Asiago, quell'Asiago che ancora lo scudetto cucito sul petto dall'anno scorso, solterrà anche per tutto il prossimo anno, Cordiano, buono il servizio qui, Barnabò cerca di saltare con il rovescio del bastone, è chiuso, però lascia sfilare bene il pack al compagno, perde l'equilibrio e verrà, peccato, spero non sia fatto nulla di male, brutta caduta, e arriva un fisco arbitrale, perché Tommaso verrà accompagnato il disco con la mano, disco e ingaggio, fuori dal terzo. Tutto giusto in questo caso, giusto non fischiare la caduta di Tommio Alverà, che è inciampato da solo, e giusto anche fischiare l'accompagnamento del disco. 8.54 al termine Mario, che ti dici perché si stanno giocando anche le altre tre sfide di gara 2, di quarti di finale, facciamo un salto. Sono preparatissimo perché ho appena guardato, lo Jesenitze è in vantaggio 1-0, alla fine del primo tempo, a Gardena, mentre verso la fine del secondo tempo, più o meno il diciassettesimo minuto, il Lubiana è in vantaggio 2-1, a Vipiteno. Perfetto, grazie Mario, quindi anche tutti i nostri riscolatori più interessati, anche gli altri risultati, sono accontentati, bravo De Zanna qui a tenere, un Asiago mi sembra che stia perdendo un po' di lucidità, di perfezione più che di lucidità, e Cortina prova ad approfittarne, ancora non è così cattivo il Cortina a riuscire a sfruttare i turnover che regala l'Asiago, e comunque abbiamo detto, un po' sbagliano tutte e due le squadre, per due asseti tattici decisamente diversi rispetto al primo tempo, anche qui carica da Tergo, ma questa forse Mario, vabbè, non commentiamo, questa forse poteva essere anche passibile di fischio, oppure no, che dici? Ripeto, tutto dipende dal metro che gli arbitri vogliono, non utilizzare, quindi il fallo poteva starci, ne abbiamo visti fischiati di molto più lievi, chiaramente giusto mantenere lo stesso metro da una parte e dall'altra. Il disco che arriva in fondo supera la rossa, arriva il fisco arbitrale per la liberazione, ma prima occasione per l'Asiago, di nuovo un po' di indecisione, ma mi sembra che le due squadre si stiano proprio equivalendo su questo discorso, errori, regalini, occasioni, direi che nessuno merita il vantaggio. Ritmo anche più alto secondo me in questo secondo periodo, sai poi il discorso dei falli è sempre quello, se fischi il fallo di Enrico Larker, che perché vedi la trattenuta, questo suo dami è fallo, punto, inutile girarci intorno. Rosa difende il disco con forza tecnica, poi alla fine è bravo, però cazzola portaglielo via, Cortina può allontanare, rischia un po' con il delay of game, a meno l'illusione ottica che il disco potesse venire fuori, ma c'è solo un icing, se no vado errato. Cortina che soffre ovviamente, quando la linea, soprattutto le prime due linee, Asiago alzano il ritmo, Cortina deve essere bravo a riprendersi il match, vince l'ingaggio adesso, giocare con tranquillità, e riproporsi nel terzo di Vallini. Ha dimostrato che ha la possibilità di guadagnarsi il campo, dall'altra parte rispetto alla porta di Marco De Filippo, e stare lì e creare qualcosa. Nel caso contrario, la tecnica, soprattutto dei primi due blocchi aseghesi, è maggiore rispetto a quella di Cortina, quindi se loro fanno il giro disco nel nostro terzo, hanno l'opportunità di arrivare spesso a occasioni da rete, da tiro e anche da rete. Eh sì, bisogna incanalare la partita sui nostri binari, e non sui loro. Chiaramente nell'hockey tecnico, giocato e più sopraffino, loro ci sono superiori, dobbiamo invece puntare alle nostre armi. Ancora un Cortina che è libera, prova a trovare la corsa di Chad Pietronino, forse un po' avventata la scelta di Giftop, Prusovainen qui, forse era appunto... Ma secondo me era addirittura Mike Cazzola con il numero 13, però potrei anche sbagliarmi, eh? In ogni caso ha provato a lanciare lungo. Sapreva un po' lo schema del nostro gol ad Asiago, quindi dice ha funzionato una volta, perché non riprovare? Era attento l'Asiago, aveva lasciato un uomo basso, ovviamente non si farà sorprendere. Bravissimo qui invece, nell'uscita di zona, Mike Zanatta in due tempi, elude la marcatura, poi riesce ad andare anche a toccare il disco per il recupero, però Luca Zanatta che invece sbaglia il passaggio, non c'è Ising, si gioca a Miglioranzi, Chad Pietronino carica lieve, giusto per disturbare, un Cortina che va in for check, va a prendersi il terzo, molto bene qui, sbaglia Cazzola il primo intervento, poi interviene su Marco Rosa con una mezza carica, niente di così pericoloso. Ancora Cazzola, ingresso in zona, Luca Zanatta, cerca la segre Cazzola, Vallini deve metterci il gambale, perché il disco è passato oltre la steca di Cazzola, non ha trovato la deviazione, ma poteva diventare veramente pericoloso, bravo Vallini. Eh sì, bravo Vallini, anche se quel rebound era veramente, veramente ghiotto per qualcuno, se si fosse fatto trovare al posto giusto, al momento giusto. Nell'angolo, a destra di Marco De Filippo, si lavora il disco con due giocatori deseghesi e due della Cortina, Luca Zanatta, c'è Cazzola su ghiaccio, deve andare a cambiare, è solo Faloppa l'uomo della terza linea, Giftopoulos, bravo qui, finta, il retropassaggio, dà l'opportunità, Faloppa di andarsene, cerca il suo Dreaming, che l'ha reso famoso per un grande gol in casa circa due mesi fa, era anche l'opzione giusta, visto che i suoi uomini dovevano andare a cambiare. Il disco adesso recuperato da Alessandro Zanatta, Alessandro Zanatta, bravo nel primo tempo, bravo l'avversario, Marco Casetti a chiudere sul tiro, poi ci crede ancora Alessandro Zardini-Acedelli a chiudere qui il disco in Balaustra, su Forte, numero 60, prova a metterci più forza del avversario, riesce col disco, bravo Noa Zardini-Acedelli, il suo piccoliano, para Parini, buona la decisione, la volontà. Bravi, bravi, ancora ottimo lavoro di questa linea, Faloppa, Alessandro Zanatta, Noa Zardini-Acedelli stanno giocando veramente benissimo questa sera, ogni cambio è positivo, è ancora arrivato un tiro dalla blu per l'ottimo lavoro degli attaccanti che liberano al tiro, se non sbaglio, Max Cordiano. L'uomo di Saronno ha colpito, ha colpito come con un grande gol contro il Bregenze, Valquini in gara 1, sta giocando molto bene anche proprio il numero 19, pensando alla sua quarta stagione a Cortina. ex Lugano, giovanili svizzere, giocatore lombardo appunto di Saronno, molto amato ormai in valle, è diventato un giocatore di casa, un ampezzano acquisito, Max Cordiano. Un inizio di stagione brillante, poi nel momento di difficoltà di Cortina anche lui ha subito un po' il momento di disagio, di tanti cambi di linee, di assetti un po' che non funzionavano, come in tutte le squadre, c'erano momenti della stagione in cui appunto si può avere dei cali di tensione, capitato a Cortina nel periodo autunnale, proprio tra novembre e dicembre. Occasione per il Cortina qui, con un disco che finisce esterno, con la pressione della quarta linea che va a mettere, e attenzione a non farsi cogliere le ripartenze. Cordiano ributta il disco in zona, questa è la chiave tattica mi pare di Imo Macca, buttare il disco in zona e andare a creare for check, quindi dump dentro e pressione assoluta. Attenzione però a ripartenza, mantenuto di fronte a lui, Pietro Niro mantenuto, palo esterno, ha cercato proprio quel palo mantenuto perché Marco De Filippo aveva lasciato un leggero spiraglio lì, ma non così evidente da poter permettere a mantenuto di trovare il fondo della rete. Il tiro fermato dalla stecca rimane di un giocatore asiagese, ancora un po' di confusione quando l'Asiago mette pressione, c'è sempre da avere timore lì nello slot, anche negli angoli dove escono vincenti con Gellert, il disco si impenna, arriva la conclusione, ancora un disco impennato, Marco De Filippo, disco che rimane tra le gambe di Marco De Filippo, che è bravo, non troppo tanto aiutato dai suoi che alla fine escono. Mario, ancora grandissimo Marco, fortunato anche, ma la difesa del Cortina che non riesce a spazzare, essere un po' cattiva lì davanti, questo un po' mi preoccupa. Ancora Marco De Filippo ci tiene a galla e con la sua bravura sicuramente e un pizzico di fortuna sul palo del numero 10 asiagese, quindi credo più Mac Parland che ha mantenuto azione veramente continuata e fastidiosa del fortissimo attaccante asiagese, rimaniamo 0-0, però in questa occasione abbiamo un po' rischiato tanto traffico e troppo traffico di colore giallo davanti a Marco De Filippo poco fa. E nessun vigile a Pezzano a mettere un po' di ordine lì, peccato, anche con un po' di decisione, quella che ci vorrebbe in quei momenti. Forte, fa circolare il disco lungo la busta per Vankus, lo slovacco arrivato ai tempi degli giovanili, proprio ad Asiago, tanti punti per lui nel 18-20, insieme a un altro giocatore che se non ricordo male si chiamava Foltin, due giocatori di origine slovacca, Foltin non ha avuto così fortuna come Vankus che gioca in pianta fissa e come diceva Mario può diventare un giocatore veramente molto molto importante come lo è già per i stellati. La conclusione, strozzata, e sono tante Mario e questo è il buon atteggiamento del Cortina che va comunque sempre a chiudere sui tiri, quasi sempre a chiudere sui tiri dell'Asiago quindi per Marco De Filippo in certi casi il lavoro è meno impegnativo se vogliamo. Ah guarda, per un portiere forte come lui da lì possono tirare anche tutta la sera quando c'è la visuale libera da lì è quasi impossibile fargli gol. Comunque il fatto che Vankus sia molto molto forte lo si capisce anche dal fatto che gioca fisso nello special team con una squadra quella dell'Asiago che ha un roster da questo punto di vista di tutto rispetto. 3.40 al termine, Iptopoulos gioca molto basso, cerca un passaggio molto alto che non trova fortuna, ancora le proteste di mattina. Sì, ma proteste del tutto ingiustificate. Forse un po' anticipate. Forse un po'. Un colpo normalissimo, io capisco le proteste prima sul colpo di Mike Cazzola ma qui urla veramente che non hanno molta giustificazione. Zanatta prova a chiudere su Frey che mantiene il possesso si crea un 3-1 ancora bravo Luca Zanatta recuperare per un break campezzano con Giftopoulos 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 aspetta l'ora della merenda Giftopoulos troppo, troppo tempo aspettato per Remy che bastava. Aveva due uomini vicino e speriamo la regia ci riproponga le play nel vedere quanto difetta adesso il greco. Bravo il terzino a chiudere su di lui ma bastava veramente un tocco o in tandem o verso il centro qui ha atteso veramente tempi biblici prima di trovare l'idea di cosa fare di quel pack. Che peccato arrivavano sia Chad Petroniro sia Luca Zanatta che tra l'altro ha l'enorme merito di aver fatto partire questo contropiede con un'azione difensiva pazzesca su Frey ha bloccato un'occasione per l'Asiago creandone di conseguenza una per noi peccato Remy Giftopoulos ha aspettato quell'attimo di troppo poteva veramente tirare prima tirare meglio o ancora più avrebbe fatto ancora meglio cedendo il disco in mezzo. Non si possono sprecare i 3-1 così sono occasioni che bisogna concretizzare assolutamente visto la forza dell'avversario non si possono lasciare perse certe occasioni speriamo di non pagare Dazio al fine del match perché le occasioni il Cortina le deve sfruttare tutte perché l'Asiago inevitabilmente ne avrà di più come dimostrato in gara 1 anche se stasera la partita è molto equilibrata un disco vogante se lo va a prendere Zardini e Cedelli è però solo soletto prova il delay su Geller è bravo a difendere qui arriva in suo soccorso Alessandro Zanatta dal sasso però ancora più bravo a sfilare via veloce e a prendersi il disco tra gli uomini pezzani che però mantengono alta la pressione con Faloppa su Zampieri bravo anche in 40 però portare fuori pulito il disco e andare a cambiare per una partita molto bella in questo secondo tempo che alla fine non è stata rovinata da quel momento di indecisione da parte della referee committee e avanti il pack Forte recupera vanno a cambiare gli uomini della terza due minuti e dice al termine Miglioranzi Miglioranzi fa tutto da solo entra nel terzo la chiusura ancora di Cazzola in back check disco lungo ma non troppo da consentire il fisco agli arbitri per una liberazione viettata forte perde l'equilibrio c'è il Pietronino c'è il Pietronino c'è Cazzola live a prova è il numero impossibile anche qui scelta un po' discutibile Mario eh sì c'era Mike Cazzola tutto solo scivola il giocatore asiagese occasione regalo colossale che dovevamo sfruttare meglio Chad doveva dare molto prima quel disco a Mike Cazzola eccolo qua Cazzola e c'è ose per forza eh sì netto netto il fuorigioco peccato perché questa era una buona occasione la scivolata dell'asiagese sarebbe stata eh sarebbe stato un bel colpo di fortuna da punire immediatamente peccato veramente due occasioni ormai quella sulla stecca di Giftopoulos che si è tardato veramente troppo su un 3-1 che doveva essere sfruttato con rapidità ed esecuzione rapida e consentire magari anche un rebound invece nulla di ciò è stato fatto da parte del greco che siamo convinti anche questa sera però potrebbe regalarci qualcosa di interessante Vainonen disco cippato da Giftopoulos quindi tutto si gioca libero ora non c'è nessuna liberazione vietata 1.25 al termine porta fuori il pack l'asiago sulla neutra riesce a mantenerlo riesce sempre a trovare un uomo libero però l'asiago Vancus si accentra prova scarico sulla bru per Casetti Casetti alza la testa preferisce la scelta più tranquilla far circolare il disco dietro la porta di Marco De Filippo sulla bru per Ginetti Ginetti per Vancus il buon movimento del 22 ancora per Ginetti cerca un colidoio con il ribalzo in balaustra favorevole lo trova ed ora è l'occasione del break anche se è un 2-2 Chad Pietonino ben assistito qui da Giftopoulos è da solo Chad è da solo Chad riesce in qualche maniera a trovare Vainonen ma ci sono troppe steche asiaghesi torna tutto l'asiago nel proprio terzo bravo Giftopoulos a comparare un gran pack qui al centro meno accederlo a Chad Pietonino il tiro di Luca Zanatta sul corpo di un giocatore asiagese si attrava di Marchetti Peccato bravissimo Remy Giftopoulos a recuperare quel disco in mezzo a due giocatori asiaghesi furbissimo il giocatore greco poi è mancato il servizio al centro e si rimane ancora sullo 0-0 20 secondi alla fine del secondo periodo Ginetti risca un po' sulla pressione blanda di De Zanna Cortina deve stare attento ed ora forse ha un'occasione per andare a spingere questi ultimi secondi Luca Zanatta si inceppa un po' sul pack un po' con la neve un po' con un'altra esitazione per fortuna c'è l'esitazione anche da parte del giocatore dell'asiago si trattava di Marchetti che non è riuscito a concludere con la dovuta forza finisce bene per il Cortina è bravo anche Mike in scivolata a dare fastidio bella partita di Mike cresciuto ancora di molto veramente bene bene se ne va a un secondo tempo che praticamente non ci siamo neanche accorti di come è corso via veloce come sono corsi via veloci questi 20 minuti Mario a parte l'introduzione su quella discussione arbitrale sulle valutazioni secondo noi non molto corrette da una parte dall'altra superiamo un powerplay che non è per niente male un powerplay un po' così un po' così e un Cortina che rimane solo 0-0 sfida in biligo nel terzo tempo ovviamente negli ultimi eventi regolamentari una delle due squadre deve vincere questa sera quindi ci sono ancora 20 minuti per segnare dei gol eventualmente ci sarà un overtime più un altro overtime eventualmente da giocare in 5 contro 5 di 20 minuti Mario correggimi se sbaglio perché poco tempo fa abbiamo raccontato a Spino Rava quello che è successo in Italia in Serie B dove appunto la partita è stata corretta diciamo è stata cancellata per il ricorso della Piano eh sì in caso di pareggio si giocherà un overtime da 20 minuti in 5 contro 5 e così avanti e così avanti avanti oltranza come è giusto ai playoff come è successo anche a Bregenza come è successo in pre-playoff perfetto diamo l'ina regia di hockeyportina.it grazie a dopo tra 15 minuti torniamo con le immagini e il commento di Mario Pizzamore e Luca Zardin a dopo a dopo a dopo a dopo Grazie a tutti. 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 Adami. Grazie a tutti. 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 playoff, non può andare a giocare con la fantasia, cerca subito il buco tra il braccio e il gambale tra il braccio e il corpo, lo trova con la conclusione diretta, segna la terza linea a premio di una prestazione veramente ottima del terzo blocco, bravo Davide Falopa, terzo gol stagionale per lui e dimostra di essere veramente quasi implacabile davanti in porta bravissimo gol sicuramente il più importante della sua ancora brevissima carriera freddissimo veramente a trovare l'angolino basso alla sinistra di Vallini, 1-0 Cortina attenzione però c'è subito il back dell'Asiago su un decisione di Pietronino, disco al centro, per fortuna non è giusto il passaggio è sul rovescio del bastone di Lievole, quindi il Cortina può uscire indenne da questa situazione che poteva diventare veramente pericolosa perché era un 2-1 altamente rischioso per gli ampezzani, non gestito bene qui dagli stellati e quindi la reazione immediata dell'Asiago c'è stata, il Cortina però deve continuare a giocare con, anzi da dopo il gol perché in effetti il Cortina è arrivato il gol in un momento dove l'Asiago stava giocando meglio eh sì, tanto è vero che errore abbastanza colossale della difesa asiagese per lasciare Davide Faloppa in un 1-0 invece poco fa disco che rimbalza in maniera beffarda, Phil Pietronino non riesce a controllarla attenzione a perdere però i cardini, i tattici c'è Ramaglia Bosco tutto solo per lui il disco non è arrivato possesso Asiago, disco davanti porta ancora nello slot, pericolo arriva il pareggio, momento un po' di confusione nel terzo difensivo a Pezzano, pressione asiagese che si alza al 120%, rebound concesso nessuno riesce a pulire, tutto nasce ci punisce McParland ma nasce un po' veramente da quell'indecisione precedente e si crea questa situazione con un predominio di quattro maglie gialle nello slot che uno o l'altro doveva mettere da dentro questo disco vagante, purtroppo l'entusiasmo del gol di Padoppa viene quasi subito smorzato ci godiamo il gol di un giovane Ampezzano che che arriva al suo gol veramente come diceva Mario il gol più importante della sua carriera finora ma d'altra parte la reazione dell'Asiago se vanificata nella prima occasione che abbiamo raccontato con il 2-1 gestito male dalla squadra di Matila al momento di pressione con gli uomini migliori sul ghiaccio arriva il pareggio e attenzione adesso non scomporsi Frey, Frey prova il tiro, chiuso bene da Larker, ancora Larker su di lui il delay di Marchetti ostacolato dal capo arbitro che non gli permette di gestire bene il pack però alla fine bravo Marchetti continua a provandarsene ancora in break Giftopoulos chiuso da rientro di un fenomenale Marchetti qui che se ne vada solo ancora Larker su di lui ancora bravo a chiudere in prima battuta dietro la gabbia per Vynonen un po' in ritardo pulire la zona dietro la gabbia quindi regala il disco agli avversari mantenuto tiene la testa bassa l'asiago dopo il gol del pareggio ovviamente vede che il momento è propizio per andare ancora a spingere come stava facendo fino al gol di Falop eh sì, peccato, peccato è arrivato troppo presto il pareggio asiagese in una mischia si poteva fare un po' meglio però sai, sono quei dischi in mezzo tra sette giocatori può finire a destra può finire a sinistra purtroppo è finita proprio sulla stecca sbagliata quella di McParland 1-1 ma Cortina che c'è e deve continuare a rispondere colpo su colpo a questo asiago siamo 1-1 e nulla è ancora deciso Dal Sasso con Noa Zanina Cedelli nell'angolo nella sfida ovviamente una parte della sfida proprio tra loro due Dal Sasso davanti la gambia Zanina Cedelli non riesce a contenerlo arriva il gol di Dal Sasso qui con Zanina Cedelli che ha provato a seguirlo però è stato più bravo Dal Sasso a saltare l'uomo e a non farsi disinescare da Noa Zanina Cedelli che ovviamente non sarà molto contento di questa situazione si è mollato un attimino il giocatore l'ha provato a seguire ma si però manca anche totalmente lo schermo dei difensori cioè Noa Zanina Cedelli si ha provato a inseguire si è perso il giocatore però è mancato comunque un uomo in quella zolla di ghiaccio peccato veramente peccato perché l'asiago trova un vantaggio per 2-1 in pochi secondi siamo passati dal vantaggio a Pezzano siamo in time out di Ivo Macchia che chiaramente vuole un po' riordinare le idee e farle riordinare ai suoi ragazzi peccato siamo passati dall'entusiasmo per il gol di Davide Faloppa a due minuti di assoluto dominio asiagese con il Cortina che ha un po' mollato non so dove arrivano i demeriti del Cortina e dove l'asiago poi sotto 1-0 a quel punto ha iniziato a spingere veramente con tutta la potenza che ha a disposizione tant'è che però 11.46 alla fine 2-1 asiago tutto da giocare solo un gol da recuperare potevamo attendercelo che Cortina potesse andare sotto ci siamo sorpresi per proprio il gol di Davide Faloppa quanto bello e quanto entusiasmante sia arrivato proprio in un momento delicato del match dove Cortina stava un po' soffrendo l'asiago però ha dimostrato di non subire così tanto appunto il nostro entusiasmo della squadra attenzione però Zampieri prova a andarsene da solo è chiuso in due tempi qui è da Maizanatta prova lo scarico per Zardina Cedelli lo scambio con Barnabò Barnabò disco al centro non raccoglie nessuno Cortina c'è e ci crede Alessandro Zanatta aspetta l'arrivo dell'avversario per appoggiarsi lasciare contenere il disco nelle sue gambe Maizanatta lo tiene dentro a lavorare ancora il pack il Cortina dentro nel terzo con tanta volontà e cattiveria riesce a trattenere ancora Maizanatta in quattro tempi praticamente con grande esperienza riesce a gestire benissimo il suo bastone e la sua posizione per tenere il disco basso per la ripartenza adesso degli stellati attenzione a non aprirsi troppo il Cortina ovviamente dovrà un pochino esporsi adesso Rosa Larker la carica di Vaino non c'è fallo si gioca Cazzola riparte per Giftopoulos passaggio non perfetto qui ancora un Giftopoulos troppo statico gioca da fermo praticamente Mari eh sì ci aspettiamo ancora qualcosina da questa linea che deve veramente prendersi il Cortina sulle spalle e portarlo al recupero McParland e Larker un'altra bella sfida tra un giocatore di talento assoluto o è già confermato come McParland e una giovane promessa dell'Occhi italiano come Enrico Larker sfida molto continua tra loro due spesso vincente anche il giovane 53 a Pezzano sulle sfide primissime partite da playoff con questa carica emotiva e questa importanza anche per Enrico Larker giovanissimo classe ricordiamolo 2004 ed è proprio sui ragazzi come lui che il Cortina deve costruire il proprio futuro il T.O.D. migliora anzi queste partite non faranno altro che accrescere esperienza nei ragazzi 2-1 risultato a 10-19 dal termine 60 regolamentali c'è tutto il tempo Luca c'è veramente tutto il tempo il Cortina ovviamente deve uscire un po' da questa impasse perché l'Asia non molla un centimetro non molla un centimetro li vediamo proprio nelle immagini guardate quante maglie gialle vanno a stringere su la ripartenza del Cortina un po' pione dei primi minuti dell'inizio del match adesso il pacchia viene ributtato dentro anche esce dal ghiaccio 9-56 Mario un salto nelle altre arene che dici? si può fare commercial break però dimmi tu andiamo torniamo dopo del commercial break anche per i nostri telespettatori telespettatrici diamo l'ina alla regia afro il tuo benessere quotidiano torniamo live su okcortina.it vi anticipavamo prima della power break e che avremo citato ovviamente i risultati dagli altri campi perché si stanno giocando le sfide di Vipiteno e quella di Selva di Val Gardena eh sì allora al nono del terzo tempo a Vipiteno il Vipiteno ha appena accorciato sul 2-3 mentre a Gardena 1-2 per lo Jesenizze perfetto finisse così le due serie andrebbero sul 2-0 giusto Mario? eh sì e purtroppo finisse così anche all'Olimpico tutte le serie si porterebbero sul 2-0 ma c'è ancora tutto il tempo c'è ancora tutto il tempo 9-42 cortina sotto di un gol Barnaboccia un cambio anche tra le linee Barnaboccia Naccedelli e Alessandro Zanatta che soffrono un po' un disco un po' fortunato permette al cortina adesso di uscire dalla zona con Alessandro Zanatta dump regolare giusto per la corsa di Zanicelelli arriva Casetti mette fuori bravo potrà tenere il disco dentro Luca Zanatta ecco il numero 60 pezzano prendersi il disco due su di lui vediamo se riesce a gestire bene il pack bravo qui anche Barnaboccia ad aiutarlo Barney perde il primo controllo e non è facile perché arrivano due giocatori su di lui ma il cortina ci sta mettendo veramente molto mordente in questo caso è inevitabile ed è giusto che sia così perché bisogna uscire da ogni anche sfida individuale vincenti se si vuole vincere questa partita ricordo il cortina sotto per 2-1 nove minuti esatti è il termine eh sì bisogna lottare su ogni disco il cronometro è alleato dell'asiago ma dobbiamo veramente andare a rubarlo e a prendercelo questo disco e a cercare a creare i presupposti per poi arrivare al pareggio mancano un po' l'idea in questo momento la cortina l'asiago molto più concreto trova adesso anche una soluzione con Marco Rosa il tandem semplice riuscito però con Magna Bosco cortina non riesce a seguire i due giocatori non riesce a prendere possesso del disco e gestirlo con un po' di calma matematicamente viene regalato agli avversari in zona neutra che poi vanno a prendersi il terzo bravo qui cazzola su McParlane però alla fine c'è il raddoppio di Magna Bosco che va a aiutare il suo compagno se le danno qui il disco che arriva col tiro Magna Bosco davanti alla gabbia Debbia Marco De Filippo risponde Vynon deve fare pulizia il diamante allo specchio è l'uomo ideale lì davanti forse l'unico insieme a Maizanata che può usare il corpo e un po' di rudezza Gardner mette fuori Cortina mancano sette minuti otto minuti esatti sembra ancora un po' distante Mario no? da riuscire a tornare un po' in confusione non dico in confusione ma un po' intimorito e sotto pressione perché la Zia lo sta giocando bene eh sì e poi sai nella testa di Ivo Maschka occhio al break occhio al break Sanna e tiro alto sopra la traversa nella testa di Ivo Maschka è la prima linea che deve comunque dare fosforo e creare hockey se invece sono costretti i ragazzi a difendersi dagli attacchi di McParland e Sochi diventa difficile creare qualcosa di pulito tanto reazione reazione da parte dell'asiaghese da terra gli arbitri come stanno facendo da un po' di tempo fanno finta di non guardare e al playoff ci può anche stare tranquillamente Marco Sanna il suo chip non è proprio perfetto regala un ingaggio fuori dal terzo poteva andascere qualcosa di diverso anche qui scelta secondo me non da rivedere di Marco Sanna Zarnina Cedelli è entrato dalla panchina stava correndo vicino a lui per dare progresso e costruzione alla manovra l'assistenza al 60 sarebbe stata ideale per poi andare a cambiare invece tocca il disco lo allunga in maniera sporca perché poi finisce fuori dal rettangolo ghiacciato ingaggio a 7.08 dal termine santo momentale Zarnina Cedelli di fronte ancora dal sasso vince tra le tre linee perché sono poi quelle che hanno segnato due gol dal sasso per l'asiago e falopa per gli ampezzani veramente bella sfida questa sera tra queste due linee giovanissime Luca Zanatta su Stevan disco che esce con un rimbalzo fortunato per gli ampezzani ma è Zanatta cerca di trovare un ingaggio in zona e lo trova e quindi Cortina probabilmente andrà a cambiare a inserire ora i suoi uomini più affidati come la seconda linea anzi la prima linea con Glippopoulos Cazzola 6.39 vediamo cosa accade adesso con un ingaggio in zona è un'opportunità perché veramente adesso bisogna contarle è da un po' che Cortina non trovava il disco a un ingaggio nel terzo difensivo di Valdini fondamentale vincerlo questo ingaggio Cortina che ha iniziato a girare se non sbaglio a due linee mescolato un po' il meglio delle seconde tre linee praticamente con Noa Zardina Cedelli Barnabò il tiro di Vainone il passato di Vainone il tiro di Filippo Miro mette un po' difficoltà Valdini tiro di Chad Pietro Miro deviazione di Cazzola peccato peccato qui rischia un po' Filippo Miro anzi Chad al playoff ci sta a non fischiare smettetela in panchina dell'Asiago di protestare Filippo Miro recupera il pack lo fa scivolare ancora Vainone e ancora Asiago in pressione vediamo però se la prima linea del Cortina qui riesce ad alzare un po' il baricento del Cortina a dare costruzione a quello che deve essere la rimonta Filippo Miro anche qui un fischio per l'accompagnamento del pack ma cosa deve fare un giocatore non capisco non so se ha fischiato per questo o per un bastone alto si ha fischiato sicuramente per questo giocatore che salta in aria è il terzo che ci fischiano contro questa sera l'arbitro ha deciso che così non si può fare e quindi arriva il fischio arbitrale lo rivediamo nel replay se riesce a seguire il pack il pack si impenna oddio può anche starci il fischio poteva mettere solo in tasca può esserci può starci questo fischio non l'ha abbandonato subito ecco diciamo il pack Chad Pietro Niro disco dalle parti di Marco De Filippo Luca Zanatta 5.50 corre via veloce il tempo dall'altra parte per Zanna il damp angolato per Zanna che prova la conclusione chiusa però dal rientro asiagese altro ingaggio in zona si va ancora a spingere bisogna essere più cattivi più anche più lucidi lì davanti giocare con serenità non è facile ovviamente si gioca si sta giocando gara 2 di quarti di finale con appunto avendo in mente che potrebbe essere perdere questo match potrebbe dire pregiudicare un pochino la serie perché ovviamente come abbiamo anticipato perché ancora non lo sapesse al meglio delle 5 gare giovedì c'è gara 3 con il match point in casa per l'asiago c'è il pietonino in tiro a fil di palo passa veramente poco lontano dal secondo palo per attenzione alla ripartenza Vanion a chiudere suo mantenuto fa il suo lavoro ottimo prima col bastone poi col corpo però sono tre giocatori ampezzati in Amisca dimostrazione del fatto che Cortina ci crede riesce a essere vincente adesso l'afro qui nella uscita di zona deve accelerare c'è il pietonino che parte proprio dalle retrovie prima linea ancora sul ghiaccio c'è il pietonino fa tutto da solo poi accompagna il disco all'esterno spero che non ci sia il fisico per ritardo di Gedi quando attacchi non c'è questo tipo di fisco mi posso aspettare di tutto questo intendo sarei veramente sceso sul ghiaccio a protestare anch'io però peccato perché effettivamente questo disco doveva rimanere sul ghiaccio invece pochissimo fa disco che è uscito veramente di poco veramente poco 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 ancora tiro di Chad Pietro Niro Adami al face off vinto con mantenuto poi riconquista il pack pastiglia nera seguita e servita a ritroso per di nuovo un asiago sempre ben disposto sul ghiaccio trova sempre l'uomo guardate qui un 2-1 per la situazione chiusa qui da Marco Sanna ma con tre passaggi si sono trovati benissimo gli esaghesi eh bravi hai soprattutto nel dribbling messi a sedere Mike Zanatta e Luca Zanatta non gli ultimi due Mike Zanatta la buona carica qui Sanna passaggio non preciso però raccolti in qualche maniera da De Zanna che trova Adami con un po' di fortuna Adami a ritroso ma Sanna il tiro di prima intenzione fatto tutto molto bene con un po' di fortuna sui rimpalli Sanna colpisce immediatamente come doveva fare Vallini è pronto perché lui ha in questo caso il panorama spalancato vediamo Adami il suggerimento a ritroso Sanna senza pensarci su trova il tiro e trova un ingaggio ancora in zona per Cortina che stringerà sia a una o due linee come diceva Mario in questa parte finale obbligata ovviamente la scelta se così vogliamo poi sempre discutibile se vogliamo vederla ad un altro discorso però adesso bisogna puntare sugli uomini più forti maggiori quelli che hanno ovviamente più punti nelle mani questo è per un asiaco che adesso non libera esce Marco De Filippo lascia il disco a Fil Pietroniro Tessari su di lui ancora Fil Pietroniro 4.29 al termine sempre due un risultato in favore degli ospiti sbaglia tutto qui Fil Pietroniro ancora un po' fortunato a Cortina forse è il momento giusto visto che ci stanno anche aiutando un po' di rimpalli però attenzione il break dall'altra parte buona giocata con il rovescio del bastone disco che non si capisce più dove sia finito sull'esterno della rete perde il bastone il giocatore di rimpalli di rimpalli e lui che deve andare a prendersi questo disco Tessari la terza linea dell'asiago Vancus su giftoplus Carambola che permette a Cortina adesso di ritrovare il possesso Roni De Zanna passaggio per Cazzola che non raccoglie un po' sfiduciato qui Cazzola è anche stanco perché è sul ghiaccio veramente da quasi un minuto e mezzo quindi chiaramente deve andare al cambio 3.40 al termine l'asiago sembra aver mollato qualche centimetro rispetto a qualche istante fa soprattutto dopo del secondo gol anche qui il fisco abitrale è discutibile su questa liberazione Magna Bosca era pari merito praticamente con Luca Zanatti che infatti se la ride un po' fischio dubbio sono curioso di vedere no sono usciti da troppo poco i ragazzi della prima linea per rientrare già sul ghiaccio 3.35 alla fine il tempo ci sarebbe ha trovato il pareggio il Vipiteno quindi non vedo perché non possiamo trovarlo noi esatto Adami vince l'ingaggio vediamo Luca Zanatta la botta di Mag Zanatta sul corpo sulla schiena sente il colpo qui Adami Francesco Adami va subito a cambiare è caduto davanti alla gabbia nell'ostacolarsi con il difensore doloroso questo disco sulla schiena di Francesco Adami Sanna a caricare a lavorare come un leone di Cortina c'è ci vuole ci crede l'Asiago sta ovviamente mollando un pochino per modo di dire mancano 3 minuti ha spinto tantissimo dopo il gol della Cortina trovando il pareggio poi anche il gol del vantaggio e continuando a creare pressione sui ampezzani che hanno avuto delle serie difficoltà o sono i minuti finali sono i minuti decisivi di questi 60 regolamentari cazzola Giftopus non raccoglie ancora troppa imprecisione ma l'imprecisione ovviamente è anche così dettata dal fatto che l'Asiago è sempre messo bene in campo come salta qui McParlane anzi Marchetti Vainon che bravo a chiudere nel secondo tempo gioca col cronometro l'Asiago gioca col cronometro Marchetti ecco cazzola vai Mike qui è l'occasione 2-22 dai ripartiamo con un break dai Giftopus dai un po' di velocità all'azione lo scarico ritroso sbagliato per Char Pietoniro che brutto passaggio regala un 3-1 agli avversari che perdono con D'Assasso il pack lo riconquistano poi in maniera con Frey si perdono secondi portanti ma che occasione fallita per Cortina ancora sufficiente assolutamente un servizio che dovrebbe essere gestito molto meglio qui per o Chad o Phil sulla blu era Chad Pietoniro arrivato a rimorchio aveva tutto il tempo Remi di trovarlo in maniera più precisa veramente una grossa occasione Cortina pare anche un po' stanco in questi minuti finali ma non deve assolutamente accusare questo sentimento perché il Cortina deve ancora giocarsi questo match a 1.35 dal termine deve provare a impattare la sfida quindi Mike Zanatta porta il disco dietro la porta per fare uscire chiaramente il portiere nessuno lo segue in questa idea che secondo me era molto brillante e quindi purtroppo si rimane in 5 contro 5 e uscirà adesso Marco De Filippo vai non era forse il momento Mike Zanatta deve difendersi ma su due uomini anche qui non era secondato Ising molto bene 1.09 si andrà all'ingaggio uomo in più sul ghiaccio per il Cortina che chiaramente ha tolto il portiere 6 uomini di movimento fondamentale vincere questo ingaggio fondamentale il lavoro che Mike Cazzola deve fare sa fare perché è veramente un fenomeno in questo aspetto del gioco veramente fondamentale vincere l'ingaggio arrivare al tiro dalla linea blu dall'altra parte c'è un altro specialista che è McParland Cazzola ci ha regalato tante emozioni tante percentuali altissime anche nei ringaggi vediamo se Ambuto andrà incontro a quello che deve dovrebbe essere fatto in una situazione così delicata del match ci riesce Mike Cazzola sulla blu deve scaricare c'è il pietonino dell'azione di Vino nel disco che si impenna mette fuori Geller Luca Zanatta riesce a contenere il disco nel primo tempo Vino nel gift opus via lavorarlo e ancora disco fuori 54 secondi al termine stecca alta bastone alto di un giocatore di Luca Zanatta quantomeno fischiata a Luca Zanatta si riprende con un ingaggio all'esterno del terzo 53 secondi alla fine ancora Mike Cazzola e McParland che si chiariscono le idee chiede come va a casa vediamo nel repre abbiamo visto nel repre la conclusione di chat Pietro Niro con la deviazione con il bastone di Vino nel disco che si impenna di una decina di centimetri sopra la traversa di un Vallini già comunque fuori dai giochi ma troppo alta la deviazione anche se vogliamo fortuita 53 secondi Cazzola vince di nuovo face off ancora tutto da rifare però fiscalità a quest'ora della sera io lascerei perdere veramente un altro secondo perso e un'altra occasione di possesso persa perché deve riconquistarsi era vinto questo ingaggio Cazzola lo vince un po' di confusione qui la terminazione di Cortina che porta alla riconquista del pack Giftopus parte dalla retrovia qui il rolling per trovare chat Pietro Niro dall'altra parte chat Pietro Niro lavora il disco viene atterrato da Casetti Vino a lavorare col fisico Vino è un po' nella confusione passano secondi importanti in una zona del campo buia lì dove il disco viene gestito bene se vogliamo dall'asiago il Cortina ci prova deve nascere qualcosa adesso perché mancano troppo poco Vino nel Fil Pietro Niro Fil Pietro Niro alza la testa non ha compagni da servire chiama il disco Giftopoulos Giftopoulos non gli arriva il pack arriva su quella di Vino può rontanare il pack il disco l'asiago lo riprende però Luca Zanatta prima che sia troppo tardi servizio dentro Cazzola lo tiene dentro anzi no scorrono i miei secondi sette secondi forse troppo poco Luca Zanatta trova Giftopoulos e l'asiago con la sirena che arriva in questo istante vince con l'identico risultato di gara 1 anche all'olimpico la seconda sfida un cortina che però diciamo ha giocato meglio di gara 1 avrebbe meritato decisamente di più però a tratti abbiamo visto ancora la forza dell'asiago che adesso mette la serie tutta dalla sua parte che peccato veramente che peccato caro Luca il peccato il rammarico più grande che forse il peggior cortina l'abbiamo visto dopo che era riuscito a passare in vantaggio e da lì veramente abbiamo avuto minuti complicati in cui l'asiago ha spinto sull'acceleratore forte e ha segnato due gol nel giro di pochissimo e si porta a casa anche gara 2 eh sì mentre vediamo sul ghiaccio i saluti da un ex Alex Gerlert con l'attrezzista Renzo Zardini amicizia rimasta tra i due per solo anno trascorso di Alex Gerlert noi ci congediamo dal olimpico con molto rammarico anche perché l'illusione e l'entusiasmo del gol il gol e poi l'illusione di poter vincere questo match da parte di Davide Faloppa con il nostro sfogo è durato troppo poco è stato quasi strozzato dalla marcatura dell'asiago Mario che è arrivata ce lo guardiamo subito è il pareggio di McParland dopo un minuto dopo un minuto un minuto pareggio di McParland e gol poi decisivo di Dalsasso bravo anche lui comunque a mettere a sedere Marco De Filippo non ci voleva perché dopo il vantaggio cortinese ci credevo veramente purtroppo questo asiago non è morto sportivamente parlando non siamo riusciti a dargli il colpo di grazia anzi sembra quasi che il nostro gol abbia un po' stuzzicato il can che dormiva e vince l'asiago non si può dire in maniera immeritata chiaramente perché l'asiago è una signora squadra però ci credevo ci credevamo nulla è finito si va a gara 3 giovedì tra due giorni ad asiago come dice lo striscione degli ultras con il coltello tra i denti perché questa è la sfida da coltello tra i denti gara 3 e l'asiago avrà il primo dei tre match point per portarsi a casa la serie ma il cortina anche di questa sera ha dimostrato che lottando veramente si può dar fastidio agli stellati e si può fare ancora meglio perché ricordiamo che il cortina ha regalato qualcosa nella prima frazione nonostante sia finita sullo 0-0 ancora qualche disattenzione siamo convinti di un cortina di fronte a una squadra che abbiamo detto forse troppe volte anche forte forse più forte del cortina però il cortina può fare meglio abbiamo visto giocare meglio il cortina e spero che sia una crescita che in gara 3 si arrivi veramente al 100% sotto ogni aspetto e quindi direi questa sera un cortina bravo poi è stato disciplinato pochissime penalità ha sbagliato poco pochi errori individuali Mario e diamo la linea regia per chiudere io sarei abbastanza categorico e severo analizzando e andandoci a pensare molto bene è mancata totalmente la prima linea eh sì sicuramente sì dal punto di vista della realizzazione chiaramente dall'altra parte si trovano a giocare contro Rosa McParland e compagnia bella ma le occasioni le abbiamo avute e quindi le occasioni le abbiamo avute lo so il mismatch questa sera è andato a favore degli stellati in quella linea particolare a quella giungi una seconda asiagese fortissima in confronto a qualsiasi seconda linea di tutte le squadre della Alps Hockey League chiaramente la squadra sulle spalle devono caricarsela Giftopulos Cazzola in particolare che questa sera purtroppo dal punto di vista della creazione e costruzione di gioco un po' hanno latitato benissimo grazie Mario grazie a tutti i telespettatori e telespettatrici di HockeyCortina.it noi ci saremo con la radiocronaca da Asiago giovedì ma solo dalle 19.45 non molto probabilmente solo dalle 19.45 non dall'inizio del match ma vi teremo aggiornati intanto salutiamo HockeyCortina.it e speriamo di rivederci sabato speriamo veramente che non sia un arrivederci alla stagione prossima ma solo un arrivederci tra qualche giorno ciao Mario grazie buona notte a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.